Dovrebbe andare, vediamo un pochettino Siamo? Bella, 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 è partito, speriamo che regga Buonasera a tutti Buonasera Allora, vi starto un singoletto, eh Stasera sarà da sostenitori Eccomi qua Facciamo un singoletto nel frattempo che arrivano tutti Allora, il negozio, sempre 4400 cp Ho aggiunto no, sempre messi poco pane, marra Vabbè, il passo l'ho già finito Ok, vabbè, il livello ormai è arrivato al massimo Ecco, sabbarufo, su prima Capaccio, capaccio, il butta fuori Webby bro, che succede? Eh, non funzionava oggi Mi staccava la diretta ogni 5 minuti, ogni 10-20 minuti Era impazzito Ah, ci sei Bruno, allora stacco Aspetta, aspetta No, dimmi Ok Ho il party aperto Entra stesso tu da me Mi vedi, Onna? Dov'è, dov'è, dov'è? Il party Io l'ho lasciato aperto Se non mi ha derrato, eh No, questa è un'altra roba Non ci azzecca niente Impostazione Aperto, aperto Partecipa su di me Dai, dai Buonasera Buonasera Pietro Come procede? Spero bene Spero che non ci siano di nuovo i problemi di oggi Comunque t'avevo scritto nei sussurri Noi sono arrivati, Andonei? I sussurri? Eh, mo non ci stanno più, vero? T'avevo scritto Quando si è staccata completamente la live Che non si attaccava più Eh, t'avevo scritto nei sussurri del gioco Che si era liberato il posto Ah, ok Ci sei alle 23 Allora giochiamo alle 23 Perché si era liberato il posto Ma stavo off live Perché non andava Accendo, accendo Si è ripreso? Spero di sì Sembrerebbe di sì Alla fine non è andato più niente Nulla Ho continuato a giocare un'oretta Fuori dalla live Infatti Cantonello Voleva giocare ora di pranzo C'ero Si era liberato il posto T'avevo scritto nei sussurri del gioco Ma avevi staccato Non lo so Guarda Dove faccio vedere ora Il set dell'M4 È questo È questo qua Sì, sì C'è posto Simone A voglia, a voglia Adesso viene Bruno E tra 20 minuti vieni tu Buonasera Joe È questo qua Questo qua è il set dell'M4 Dimmi Ah, vabbè Non c'era bisogno che mi toglievo Tanto non c'ho l'impugnatura Dai con i like Dai ragazzi Spicciamo Eccolo qua Baggins Ciao Lupo Ciao a tutti Buonasera 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 Dai partiamo io e te Poi tra 20 minuti Arriva anche Simone Partiamo io e te In copietta Però non fare 22 kill No Cerchiamo di farne 25 Un po' di più Dai dobbiamo alzare La vittoria Dobbiamo fare La win Assolutamente Di nulla Di nulla Pietro Bella gioco Grazie per la condivisione Guardate che sto con l'aico S'arrivo Ma sono arrivate le notifiche adesso Gioco funzionano le notifiche Vediamo poi i comandi si sono riattivati in chat Che neanche i comandi funzionavano Antonello fino alle 23 A posto Si sono riattivati i comandi Proviamo un po' Non funzionava niente oggi A ora di pranzo Mamma mia Saranno Sono saltati i server Ok Ok comandi adesso funziona Allora si è ripreso Si è ripreso Tutto a posto Buonasera Christian Sei al lavoro? Pronto Vai Ah già le 9 Qua 45 Vai a letto Vai a letto Ciao Vener Buonasera anche a te caro Vai 60 giocatori 52 56 Vai vai Tra poco start La partita sta per cominciare Siamo pronti Dai eh Sto aspettando che escono Ancora non sono uscite le statistiche Regà sul gioco Vabbè Ci vorranno Secondo me due settimane Bella Davide Buonasera Buonasera Ups scusate Comunque Qualcun altro Regà che oggi Antonio mi ha scritto Cavolo io ero venuto al Games Week Ma non ti sono riuscito a salutare A fare una foto che nello stand Io gli ho detto No no Molti mi hanno chiamato Mi hanno chiamato da fuori lo stand Lupo Io sono corso fuori O comunque Vicino a Come si chiama quel filo lì Che si mette Non mi viene il nome La Vabbè Quella cosa per recintare lo stand Insomma Quel filo Correvo lì E Mi facevo due chiacchiere e una foto E mi è dispiaciuto Cazzo Che con Antonio Non sono riuscito a fare una foto Però Basta Basta che mi chiamate Regà Io uscivo Aspetta Altissimo il volume Che è successo Pronto Pronto Ci sei? Io sono Tu ci sei? Sì 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 È alto il volume No eh No 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 È il gioco mio Non capisco perché Non era così alto oggi Un pezzo di fare Vaffan bagno King Pezzo di un King Hanno tolto Roberto Hanno tolto Roberto Bro non c'è più Grande l'uomo Grazie mille Vener Chi è auguri Andrea? Ah è vero È Sant'Andrea oggi Auguri auguri a tutti di Andrea È vero Me l'ho dimenticato Cioè in realtà Io non ci vado appresso A A ionomastici Io neanche lo festeggio Dobbiamo vincere Andone Dobbiamo vincere Assolutamente 23 Ti ho detto 23 Vieni Ho il party aperto Entri stesso tu È peccato che non si è riuscito a passare Al Games Week Ti aspettavamo Oddio domenica Stavamo un po' Un po' distrutti Già dai due giorni in fiera Però Sabato Anche se c'era il macello Eravamo tutti lì Nello stand Allora Begins Dove andiamo? Pataman Andiamo qua Forse dopo c'è anche Gattuso Forse Però Non lo so Ha detto che Sta un attimo finendo delle cose Stavo mangiando Vai vai Mi butto 3 2 1 Vai a letto Cristian Vai a letto Gente ovunque Uccio Ha tirato il bombardo Ci hanno tirato il bombardamento Entra dentro Ui Morca miseria Assurdo È pieno di gente Stavamo una a destra Due si avvicinano Ho visto L'ho visto Sì Stanno arrivando in due No Chi ci ha sparato C'è uno sul tetto Oddio Crackato Un solo colpo Manca Questo sul tetto L'hai fatto? No Un colpo Manca Attento Ancora dal tetto T'ho fatto? No No È sceso È sceso È sceso Cazzo Ce l'ha due eh L'ho fatto L'ho fatto Sì Mi sta arrivando un altro Dai dai Chi è il prossimo? Pezzi di fango Sì si senta ancora eco beckins dalle cuffie forse c'era zaccato in un aspetta no è solo quella online ma ce l'ho più tuttora si aspetta bassa la soglia va meglio prova 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 vai senti che adesso va meglio strano c'era un altro qua è accaduto non c'è uno soldi che ogni volta devo aprire sti cazzi di zainetti in questa vita non va bene no non va bene cioè non posso ci sono morto già varie volte prendere gli zanetti di stitizi a terra troppo tempo si perde ma posso pure scombarsi va bene niente niente e mi vado a fare la missione cazzo 44 secondi che mi dovrebbe dare i soldi mi caricare ecco voi ragazzi buonasera buonasera rocco alla giù dicevo giù è arrivata la sì dove è arrivata la notifica adesso ero live ho ancora pagato un silenzio di bomba queste utili lo so tendo perché qua non c'erano solo loro c'erano più anche quel mona che non fai contratti vedi qua c'è un altro tizio a terra che è morto devono mettere più contratti comunque ho sentito passi pure io l'ho sentito vabbè non fa niente comunque l'audio oggi si sente meglio però non hanno fatto aggiornamento vabbè no vabbè ho cambiato messo cuffie essendo meglio in cuffie però i passi prima non si sentivano no 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 potevano anche le spalle non sentivi niente li trovavi dietro non sapevi nulla ma se sarà stato qualche bug però tanto è pieno sicuramente non viene a push armi ha chiamato al nemico che arriva in volo se no ti vado a restare dall'altra parte dai che qua è un macello poi tra l'altro non è che c'ho armi c'ho l'mp snek d'è mi ha salutato tre volte è la vecchiaia fra la vecchiaia vedi che mi dimentico le cose è la vecchiaia provo ad andare su quel carrello mi ha salutato tre un po' ah si è arrivata ok ok tutta procida non so se c'è gente pure qua no eh ah questa è la mappa del multiplayer no c'è gente non ce voglio crede ah ah mannaggia discord mannaggia no serve un altro carrello uuuu uau sana satanati uri mortacci de pippo ma sei proprio un pdf giu no c'è gente pure qua eh vabbè che cavolo ce li sto pingando a tutti eh eh simone andiamo a guardare tutti ah 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 guarda là dobbiamo fare il giro no c'è uno qua sul tetto io credo che sia forse lì no esplode mo' esplode quell'elicottero eh quello non lo posso più usare mi sa vai tornessato oh però no ehm io te sconsiglio di venire qua comunque ok adesso è un attimo in volo perché è pieno voglio andare via da sta zona sinceramente che cosa c'è davanti o prendiamo quest'auto eeeh boh vengo 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 lì dai lo prendo la donna e macello dentro sta città no para para ah che 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 è successo ma no ho sentito parlare ah 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 eh molto stanno attento attento eh no io l'ho disattivata quella chatta là sennò macello urlavano riuscivano una volta non riuscivo morivo così vita mentre accendevo ecco eh però è buono è buono vedi vado scoperto ci sta qualcuno qua eh però se parli lo sanno pure loro eh ok è normale eh come li senti tutti sentono loro eh il punto è dove stanno ah l'ho visti l'ho visti l'ho visti fermo fermo la casa qua è lì sopra sul tetto li non ci ha visto però sì sì io l'ho visto camminare Ecco ecco sta scendendo Hai visto che è sceso Ha superato il muro Ho visto ho visto Aspetta che faccio il giro Lo voglio andare a prendere C'ho pure silenzio di bomba Metto silenzio di bomba Lo puscio Auguri Da dietro No Rimasto one shot Dietro l'albero Te l'ho pingato Ah ma so due So due So due Fermo fermo Mi sa che stanno tornando Che palle Sta sul monte Sta sul monte E poi se ce la facciamo Sì ce l'abbiamo fatta GG Sono tornato dentro Mi sono anche piastrato Eh so due sul monte Attento Eh magari Oh È entrato Mi sa è dentro Sì Sì Oh dietro 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 Ma questo è un altro team Però Non credo che siano loro Oh Oh Yeah Che avevi? Avevi un fucile tu, no? Sì L'ho visto passare, eh, lo so, l'ho visto passare Ma bene Eh, ma c'è stato un altro team che gli sparava Sì Ci stanno ancora i tizi lì che ci hanno sparato sul monte L'ho visto, le vie, che cazzo, l'ho visto, l'ho visto dietro Uh, tizia anche là sopra Vabbè, ma c'è gente ovunque Che sembra di star giocare dentro la missione 007 Impressato Che casino Lo giuro, sembra una missione Oh Si è buttato È sopra No, si è buttato Quando si è buttato È in avanti forse, non l'ho visto No, se l'ho visto, si è buttato 100% No, per forza si è buttato Corri, corri, corri Mannaggia, sto personaggio non corre Perché sento delle fiole Le foglie che si muovono No Solo la cassa, sento Eh, questo scioglie Oh Oh, sopra sta Eh, non capisco se da solo so in due No, so due Oh, due Eh, so due Eh, non ci puoi fare nulla se ti spari in due Sì, vabbè Ma questo mi sa che è cito Bah, vabbè Eccomi ragazzi Un attimo concentrato È che ero rimasto da solo E vabbè Corri, corri Esci Esci Bella Lorenzo Bella Alessandro Buonasera Manuel Buonasera Massimo Allora Eccomi Big Bro Sono stato con l'influenza per una settimana Ah, ecco La moda è passata Poi quando facevo le notti Il giorno dopo ero in condizione pietosa Beh, per forza Se già stavi male Più facevi la notte al lavoro Stavi massacrato il giorno dopo E' voluto stare lì Stare con Team Black Eh, lo so Eh, peccato, peccato Dovevi ammalare proprio Vabbò, dai La prossima Tanto l'anno prossimo Lo fanno di nuovo L'hanno già L'hanno già annunciato Che lo fanno di nuovo L'anno prossimo Quindi figurati Stiamo di nuovo là L'anno prossimo Prendò Prendò Fum Uh Il Gulag Che ci piace tanto No Ma power 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 No Non è il vero power Questo No Niente Ma ha preso Sì, incredibile No GG a lui Eh no Non è il vero power Sennò avrebbe vinto da solo Ok Peccato, peccato Ci sta Simone per caso Simone, ci sei? Con i colpi incendiari Non saprei Ma Ah no Ma sta ancora giocando Ah non è morto Sì, c'è il ball Ah, pensavo fosse morto Vabbè, ma non azzecco un gol È morto Vabbè, vabbè Vabbè, è morto È morto Senza neanche dirlo Non azzecca neanche un colpo Il RAL Non so con gli incendiari Ma è fortissimo Io lo devo livellare Ce l'ho nelle classi qua L'ho messo Non c'ho mai il tempo di farlo Ma lo devo livellare Eccolo qua Ce l'ho a livello 9 Guarda Ce l'ho solo con questi due accessori Ma appena Inizio a sbloccare Quelli giusti Lo metto È una bestia Penso che sia uno dei mitragioni Insieme all'RPK O le Aspetta come si chiama l'altro Aspetta, in modo di dico il nome esatto L'RPK Ho detto giusto Insieme all'RPK Sono i due mitragioni più Forti e meta Ma ha usato Daniele Secondo me Lo devi usare Ma di dove sei? Sono di Napoli Dario Sono di Napoli Allora Aspetta che ho sbagliato C'è sta Simone dei sostenitori Pronto? Pronto Sì Simo Simo Non c'è Vabbè Facciamo un'altra coppiettina Signor Begiz Il lancio Andrea Non si può fare Allora Ti devi comprare Le tue armi al carrello Praticamente Fai 5.000 Però puoi comprare una sola arma Con 5.000 Se vuoi Sia la primaria che la secondaria Sono 10.000 Bellica Napoli-Napoli Napoli-Napoli Sono 10.000 Altrimenti Devi aspettare il lancio Alla terza safe Oppure c'è una missione da fare Si chiama Roccaforte Mi pare che esce alla fine Del primo giro Sai non ci ho fatto caso? Se è il primo O il secondo giro Adesso sia il primo Non mi ricordo Adesso ci faccio caso Comunque Te lo segnala Quando esce Roccaforte Come missione Sulla mappa Se tu la completi Ti dà una cassa Con le armi personali E È diverso Regà è diverso Questo qua Non puoi comprare Il lancio allo shop Puoi comprare Le armi Volendo singole E no Anch'io Al Games Week Che ho giocato Con Vortex Non stava Usando di incendiare Lui Ma non so quale aveva messo Ma non erano incendiari Se stava a giocare insieme Aveva il rallo Ma senza gli incendiari Nel nuovo giornavetti Mi aspetta tanta neve No ma in che senso? Dici che per Natale Mettono la neve Davvero? Motoslite Soprattutto qualche essere Che ti insegue Ah no ma tu pensi Non è una roba Che l'hanno annunciato Mi compri i guanti Mi compri i guanti La sciarpa Mamma devo mettere la sciarpa Quando gioco La sciarpa e i guanti Ma sarebbe figo Come vendo Se lo fanno Le motoslitte La neve Sai che figata Ma può darsi che lo fanno Qualcosa devono inventare Non penso che si inventano La moto di zombie Oh Hanno rotto Eh perché ti devi fare le classi Hai visto io Dove sono andato su armi Che ti ho fatto vedere Che c'avevo le armi settate Ti devi fare le classi Se no ovviamente Non ti escono Ah penso io Attenzione Attenzione Signor Lorenzo Signor Lorenzo Desiderato dal Dal cielo di Activision In cassa 4 Grazie Eh perché le dovete Settare Voi le avete settate Calcolate che Dovete C'ha un modo strano Per calcolarle Praticamente Dovete mettere Più classi Perché lui ti conta La prima arma Di ogni classe Che hai Cioè per te di prima C'avevo il rall Abbinato alla mitraglietta Lui ti vede solo la prima Capito Quindi se Ti devi fare una classe Con la mitraglietta Messa come prima arma Una classe Col fucile d'assalto Come prima arma Ecco perché Se no non ve le vede Lupa sai cosa fa un pesce Quando esce dalla doccia Eh S'asciuga No No non lo so Si Si Un pesce Fuor d'acqua No Guarda se La faggia Guarda se La pezzo di Carlos Si acciuga Ah l'ho detto bene Si acciuga Signor Baggins Lei si acciuga Si acciuga Acciuga tutto Acciuga tutto Accio capito Grazie per le istruzioni Google Si acciuga Ma perché E' l'acciuga Vabbè 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 Oh tu Poi le sapete tutte quante voi Comunque Incredibile Ogni sera Ne esce una nuova Ok Ok Ah già ci sei Perfetto Perfetto Entra stesso tu nel party Io ce l'ho aperto Allora Acciugo io Acciughi tu Acciughina Vieni qua Vai 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 Tu 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 Vedi se c'è qualcuno Che sta scendendo La faccio La faccio Rubiscotto 2 2 3 4 Eh vabbè Ma perché Dico io Cambiamo No Ormai siamo qua Dobbiamo sparare 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 Come si sale sopra da qua dall'alaska da fuori non c'è niente non c'è niente no io ce l'ho ho una mitraillettra bella questa ho visto stanno scappando vabbè i soldi pagati no ma mannaggia la madosca entra no no è arrivato l'amico aiuto Baggins vai ci sono è qui è qui è da solo perchè l'amico gliel'ho fatto let's go fatto fatto oddio no comunque c'è gente c'è gente si sparano pure di là porco discord chi è? Nicola grazie mille per il follow benvenuto aspetta eh quelle piastre ce l'hai? si è andato pure la saccoccia arrivo buonasera Pierluigi buonasera caro benvenuto a televisione no no hai rotto ah no tele ah no ma tele oh che è successo ah no no hai rotto si certo che l'ho visto quello di l'ho anche postato io in realtà nelle storie vabbè ma si ma che puoi chiedere sentiamo un po' no no non mi farà arrabbiare perché già mi sono lasciato con la ragazza ah e se vuoi la salutiamo no 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 gioca che mi passa no non so se hai visto quel video Begiz di quel tipo che viene intervistato e fa salve lei come si chiama? ah non lo so c'è gente? c'è gente? no due a qualche a terra lupo bianco lupo bianco mi ha riconosciuto come faceva a sapere che ero qua? cioè nel senso e neanche il tempo di leggere il nome sapeva già che ero io in realtà come faceva a saperlo? ma ci deve sta l'amico ma questo è arrivato diretto qua eh signor signor carissimo lei seguiva questa fastidio si ne verrà uh amore mio oh ma questo dov'è? sopra sopra no no è qui è qui dov'è? è qua è qua è qua era nascosto qua dietro no way a posto mi sembra di averla rivista questa partita già l'ho rivista vai eh dove sono lontani comunque no uno lo pinga sopra l'altro lo pinga la casa qua eh contratti uh andiamo alla roccaforta a parte che ce la taglio addosso vieni 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 seguitemi e lupo bianco ho visto i messaggi in privato non sono riuscito ancora alfo stavo rispondendo a quelli su instagram che veramente ce l'ho ancora intasato ancora non sono riuscito a rispondere a qualche messaggio su instagram e messenger è pure la stessa cosa che in tre giorni di fiera mi sono arrivati un botto di messaggi mo domani mattina mi metto a guardarli un po' tutti ho sbagliato domani mattina li guardo tutti rispondo a tutti no ci arriva la buggy addosso zi mi inseguiamo facciamo GTA va 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 eh ma con sto ruoto qui ma dove vuoi andare no hanno sparato alla buggy da questa casa oh c'è gente prendiamoci sta casa prendiamoci sta casa oh porco mondo puttati che disagio ah si può salire sopra da qua si si ho tirato un bombarda ma non so se no non l'ho preso questo è meglio oh a terra a terra l'ho preso eh non so dove ma l'ho messo a terra è qui a terra da qualche parte eccolo qua fatti 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 stiamo sotto dal ponte io sto prendendo le munizioni della mitraietta ok scopro oh che è successo dovremmo andare via comunque da qua non siamo bene qua c'hanno in colpe qua c'hanno in colpe buono 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 taglia negata buono c'ho anche la cassa la cassa protezione no 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 vabbè al momento ce li ho dobbiamo trovare uno shop dobbiamo andare a shop andiamo andiamo dimmi se sai di voi cose sono cazzi miei ciao amio amio come è brutta macete bella macete no no che poi mi linciano se inizia a parlare col corsico in chat c'è gente dentro c'è gente dentro sì secondo piano non hanno l'audio vuotiamo? eh no non hanno l'audio l'ho sentito io però mamma mia ma come si sentono i passi si sentono meglio ma l'ho sentito subito questo che camminava sopra eh finalmente no non si poteva giocare senza passi let's go i soldi vai vai ancora non ho cenato io ci credete regalo non ho ancora cenato ho mangiucchiato ma non ho cenato ma ma andambo qua carlos pdf andambo qua dopo nuke eh dipende a che ora sono con i sostenitori stasera brodi che 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 cosa ah i soldi non ti sei volermi a te vai 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 non ce l'ho tutte a livellate vabbè prenditene una prenditene una scusi vieni qua no no lasciami se c'hai quella mitraglietta o non ce l'avevi proprio la mitraglietta tu ah no 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 ce l'hai ce l'hai a posto prenditi un'arma dai le piastre ce l'hai si si mettitele mettitele che non ce le hai addosso anche almeno c'hai un'arma hai preso quella più livellata si 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 a posto a posto allora contratti robe da fa montacci loro qua c'è una taglia qua giù vabbè però dove l'ha pingata guarda lì guarda 380 bella bella simone dopo di sta partita entra sesso tu che c'ho il party aperto luke skywalker che ne pensi di sto guardo francese a me piace e l'unico problema è che non ci sono taglie uavv cioè sono lontanissime perdi tanto tempo è un po' a me piace il fatto che sia più tattico e tutto il resto presso però secondo me dovrebbero un attimo mettere un po' più di wav un po' più di taglie qualche veicolo in più perché la mappa è immensa o magari qualche giocatore in più perché una volta i soldi i soldi in più che non si trovano vabbè devono sistemare un po' di roba però non è male no stavolta regge mi sa è arrivato un uccellino in casa il socio mi ha detto che stavolta reggeva facebook sbruck vediamo andiamo se ho una ragione hai sentito i passi perché avevi i tacchi eh sì c'era malena la sua no no sto perdendo la carica no ma la cosa è che non è che come posso spiegare e lo streaming non è infatto solo di warzone attenzione lo streaming è fatto di contenuti in generale quindi c'è stesso gioco per D ci si inventa altro ce l'abbiamo di fronte dove 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 come quando mi sono inventato GTA il personaggio del tenente Salvatore Conte bla 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 oh malagato infatti GTA qualche sera lo vorrei riportare sinceramente hanno restato hanno restato mannaggia oh Beppe se vi dirò un portare è sfiga comunque la Fausto buona sega buona sega eh oh ah sei tu di me sì sì e non è che se ti può passi qua dentro allora no lo so flashato boh vabbè la taglia restata e sarà andata cioè mo dobbiamo inseguire la taglia laggiù eh sì dobbiamo dobbiamo di nuovo buttarci a mare andare dall'altra parte ah Gufi sole challenge lascia stare che ho paura perché dobbiamo fare quella nuova dobbiamo fare la challenge nuova ho veramente paura ho paura della prossima challenge cucù comunque appena posto devo pubblicare le foto del games week dai l'avevo messa nelle storie però le devo pubblicare sulla pagina questo è un po' due sono due sono sono due attento mettiti safe mettiti safe io ho tirato il bombarda io ho tirato eh vai tutti e due mamma mia mamma mia mamma mia bro tutti e due col bombarda tutti e due col bombarda alla faccia di Beppe allora prendiamo la maschera oh ma qualcun altro ha tirato un bomb what sulla strada hanno tirato un bombardamento eh aspetta tefea cos'è quel respiro eh non lo so Baggins mi chiedono in chat cos'è questo respiro cioè è raffreddore imprezzato no 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 si sente molto il respiro del microfono si dicono forse c'è il microfono un po' più a altezza naso si no 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 è la cuffia non è al microfono la cuffia la cuffia non è al microfono ah è sempre tutto bluduto bravissimo ma do ora abbasso il volume del microfono ma do assurdo ah è incorporato eh vabbè quelle si figurate si è incorporato è quello che è oh lo vedo lo vedo lo vedo no perché ti aggrappi al muretto sei scemo certe volte è cretivo il personaggio più dell'altro oh no 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 oddio Baggins uno a terra eh non so se lo riesce a fare l'altro lo vedi dietranno da Fatto Fatto tutti e due Grande, grande A casa, a casa A casa Vai al gulag Ok Vai al gulag un attimo Cosa ci avevano questi? Guarda tre ore per vedere Uh, l'autostress Buono Hanno pure il coso Come siamo messi? C'è il ragazzo Oh, aiuto C'è uno qua fuori, zi Beh, la Raff Come va? Come sta? Ma sono i bot Ma non ci voglio Mi ha fatto cagare il suo No, 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 no Ho sentito a parlare Ma? No, no, c'è uno C'è uno? Sì, sì Beh, la Raff Come sta? Come va? Come sta? Ma andiamo Ma? Uh Dov'è? Hai detto che hai sentito parlare? Sì Non li vedo Eh, lasciamo sta Dai, lasciamo sta Andiamo che parte il gas tra poco Ho trovato la maschera Va, andiamo Eh, non vedo nessuno Va bene Va bene Va bene Va bene Non fa niente Non fa niente Tutto regolare Va, va Meno male Meno male Dai, meno male Quando Quando stiamo Finisce Quella cosa Sempre verso gennaio No, mi disse Chi ha scritto Il microfono Dentro la narice Ma siete proprio Dici che era Ah, è sempre Beppe Chi poteva essere Ma vaffanbagno Ui, Daniel Grazie per il follow Benvenuto Oh, c'è una mosca Mi tiri il Il co Prendi la paletta Prendi la paletta Andiamo avanti Abbiamo 7000 Eh, potremmo anche fare un uavvio al carrello Un attimino Andiamo dietro Esco St'arma è bellissima Comunque con il laser di fianco È forte Non devi mirare Miri con il laser È velocissima Pure è bella Vai, facciamo così Uavvi subito No, non si può fare L'hanno già preso Eh, all'aghi Tu non hai un sensore Qualcuno non ce l'hai Ma a parte che il sensore Non l'ho capito Su sto gioco Fa cagare Dobbiamo Ah no, eri tu Ok, coi passi Dobbiamo andare all'altro shop Ok, no Ma pure io l'ho sentito Hai sentito? Dov'è Trimone? No, come Trimone? Non è Trimone Ma poveretto È Tramonte Il presidente, bro Eh, non lo so Oh, ti sparano? No Oh, se stanno a fare i macelli Qua dentro Ma fatta caga sotto Perché c'era il nome tuo dietro Ma maffa C'è un autoress C'è un autoress qua Pietro Pietro Oh, vieni dentro Vieni fuori Oh, esci 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 Hai sentito che c'era tutto All'occhio Hai confermato fuori? Sì, sì No, sono un cretino Sono un cretino Io sono ancora vivo, eh Questi li devo beccare Aspettate, raga Muovere i gonciati Siamo andati in una brutta situazione Dai Mi posso restare il carrello Ok, c'è C'è un problema Non so dove sono andati questi E uno sarà ancora qua Da qualche parte Guardate là Eh, lo so Andra Grazie a tutti. Grazie a tutti. Muoviti, 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 dai, dai. Ma tre ore sta macchina. Mamma mia, sto gas fa proprio schifo. Eh, mi faccio il gulag. Che batta. Madonna. No, vabbè, però. Ma leva un botto, leva un botto e guarda quella macchina là. Non partiva, non partiva. Ma che il cricetto va più veloce. Mannaggia. Una gisandali, mannaggia. Oh, perché non... Prova a fare punto esclamativo notify, Dorian. Prova a fare punto esclamativo. C'è ancora il bug, mi sa. Vedi se te lo attiva in chat. Magari si è tolto. Oh, so che sono uscito. No, non c'era Milano, tramonte, non c'era. Com'è stato Milano? Eh. Eh. Aspettate che vedo se mi sono perso qualche messaggio. Eh, piano piano. Ah, fine gennaio. Fine gennaio operativo. Dai, 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 dai. Non ci manca molto. Dai, dai, dai. Eh, dicevo, Milano è stato bello, emozionante. Però, da quello che ho capito, forse qualcuno non è riuscito a... a farsi la foto con me o addirittura a scambiare due parole. Però, insomma, con un sacco di voi, ho conosciuto una marea di voi dal vivo. Abbiamo fatto due chiacchiere. Qualcuno mi ha chiesto l'autografo. Abbiamo fatto un sacco di foto. Bello, bello. È stato bello. Però, anche stancante. Tre giorni di fiera, anche stancante. Però... È stato... È stato un piacere, veramente. È stato un grande piacere. Bella Rocco. Tutto bene, tutto bene. Eh, sto cercando un po' meglio oggi. Sto riprendendo dalla stanchezza della fiera. Bella Francesco. È parecchio che non arrivano le notifiche. Eh, raga, punto esclamativo notifine chat. Si saranno tolte. Si sono tolte perché hanno... hanno levato Facebook Gaming, quindi un macello. Bella Antonio! Allora, mo' abbiamo un casino, ragazzi. Sono a 13 chili, io, comunque. E... Bello. Non c'è nulla. A parte qualche casetta. Qui. Il vuoto immenso. Che caccia faccio con la pistola? Punti, scravo di Spotify, signori. Punti, scravo di Spotify, a proposito, pubblicami a Spotify, ma... La spara, no? Ho visto, ho visto. Di frontate a spara. Eh, sanno sia qua che qua. Qua sotto, li ho visti passare. O mi butti in una piantina. O rimango in bolo. Rimango in bolo, dai. Eh, ma prima o poi dovrò scendere. Dicevo, Spotify mi ha mandato... Grazie Rocco, sempre il numero uno. Grande Rocco. Non ti piace DMZ? Non tanto, preferisco il Battle Royale, sinceramente. Altra canzone. Non so se hai sentito l'ultima, Like Controller. Mo' ne devo fare uscire un'altra, ma ci sto lavorando su. Non so quando esce. Forse... Oh, esce... Forse l'anno prossimo esce. Gennaio? Spero. Eh, mi butti in una piantina. Non posso rimanere così. C'ho un'idea, c'ho un'idea. Non so se è good. La soluzione è quella di... Infilarsi sotto stallo, però. Oppure quel cespuglio qua. Quel cespuglio, il cespuglio. No, è nel... Non ti ho detto di saltare, scemo. Fine. Mi blocco qua in mezzo. Like Controller è l'ultima che è uscita, sì, qualche settimana fa. Eeeh... Poi... Quanto è uscita? Eh sì, è uscita mo' a novembre. Fai un fit con Gianni Celeste, no? Povero lupo bianco! Ha perduto la lupacchiotto! Ultimi dieci. Non devi mollare. Oh, chi è? Sì, ho... Ho attossito qualcuno, fra... Sì, sì. Ce l'ho dietro. È brutto da dire. Però è la verità. È sta dietro di me. Otto persone. C'era anche il cavallo pazzo, lo conosco in lobby, è appena uscito. Sei persone, sei persone. L'ultimo ti devi fare. No, c'è un team da due. C'è un team da due. Succederanno tra loro. Audio, audio. No, uavvi nemico, hanno tirato. Sono morto. Non ci credo. Oh, Roberto, razza il follo. Benvenuto. Ma dici che è qua? Non stava qua che è tossiva. Ma io ora mi devo muovere. Arriva il gas. Guarda te come devo giocarmi il finale di partita, va. Oh, cazzo. Anche lui, anche lui. Si è estraiato, anche lui. No, sta tossendo questo qua sopra. Mi fai sgamare, cretino. Lo stanno killando. L'hanno killato. Pure il bombe è arrivato. Te, te. No, non mi fa sparire il... Un altro uav, zi. Non ci credo. No, no. Eh, ci ho provato. Il problema è che c'è... Erano in due qua sopra sulla montagna, vedi? Mi ha sparato questo dalla montagna. Eh, infatti hanno vinto quei due sulla montagna. Ma per forza. Vabbè, dai. Almeno siamo arrivati terzi. Vabbè, ci avevo provato. Poteva succedere di tutto. Poteva succedere pure che chiudevano la mia piantina. Rimanevano la mia piantina. Buonasera, Roberto. Buonasera a tutti. Lopo vinci questa. 500 stelle. Cazzo, però. Eh, ma era... Era difficile, eh. Doveva avere più culo più che altro. Bella, bella. Si può, peccato. Buonasera. Buonasera, buonasera. Doveva avere culo lì. Ciao. Eh, doveva chiudere nella mia piantina. Se chiudeva lì vicino alla mia piantina era fatta. Quelli scendevano. Io me li facevo dentro la piantina. Vabbè, con la pistola era tosta, però. Eh, però c'è stata una partita che ho vinto così. Sì, sono arrivato con la pistola. Ne ho fatti due. Ne ho fatti due. Mi sono preso la loro roba. E poi dopo, ma no, la sono giocata. E ho vinto. Perché io puntavo a fare quella roba lì. È arrivato, vice? Uè, libro. Oh, lui. Si parte, si parte. Vabbè, dai. Vabbè, dai. Oh, oh, oh. Mi raccomando. Prendetevi la mossa, la Red Bull. Dai, dai, dai. Andiamo a spaccare. Quella piantina non funziona. Eh, Lore, vieni un attimo qua. Vieni a sostituire la piantina, mi è piacere. Buonasera, Roberto. Allora, eccomi qua. Dai, sto cercando la partita. Dai, andiamo. Let's go. Let's go. Come la settimana scorsa. 24 bombe, Lupo. 22, 22. 22. Ah, 22. 22. Ricordavo 24. Eh, no, no, su questo ancora 22 è il massimo. Eh, allora 24. Eh, no, proviamo, no, proviamo a farle. Ah, ti ho mandato la richiesta, aspetta. Eh, sei tu, sei tu, Andre, ha accettato. Io te li scorazzo e tu con due colpi. Vai, vai, vai. Bella, Raff, ci becchiamo appena puoi passare anche un attimino. Bella, bella, Raff. Buonanotte. Uccidevi l'oro e la piantina? Che facevi con la piantina? Eh, non si può... No, no, io non... Me ne lavo le mani. Non ne... No, no, me ne lavo le mani. E di nuovo, di nuovo, Andrea. La win del bonsai. Lascia sta che io non streamavo ancora su Vertas che ne fece una simile. Ci stava... Avete presente dove stavano le miniere? Lì, che era, Guerri. Sopra. Ci stava la montagna e ci stava quella... Quella casettina di legno. Quella torre di legno piccolina. Io ero rimasto da solo a terzetti. Mi sono messo lì. Comunque la safe ha chiuso lì dentro. E a fine partita si sono sparati tutti là sotto. Appena è arrivato il gas. Sono sceso con la maschera. Ho sparato tutti da dentro il gas. Ho vinto la partita. La win della torre di legno. E vogliamo fare un po' con le mani? Andiamo a fare un po' con le mani, così. Allora, tu prendi un po' d'oro. O tagli a fettine. E dice sì. Cioè, c'è qualcuno che fa eco comunque. Qualcuno che fa eco. Mi sa Lucky, Lucky, fai eco. Sempre io sono. Sì, sì. Sì, sì, sì. Scego! Senti, senti, senti. Sei urlo, sì, sì. Guarda, guarda. Ego! Pronto? A quanto l'hai messa tu, Baggins? Che a te non era male. A te adesso andava bene. A 34, ok. Devi metterla a 33. Prova a 30, 40. Stiamo calmi. Stiamo calmi. E dice sì. Ora, mi sentite. Di meno, però, ancora un belino. A quanto l'hai messo? La soglia 34. Con lo scendo a 20. No, no, è troppo. Magari 20. Lascialo 30, va. 30 va bene. Lupo, il campo visivo tocca... Quanto c'è? 115. A faccio. 115. 115, sì. Peccato, non c'è... Salute. A faccio, cavolo. Peccato, non c'è 130. Sennò faccio... Martingari, si vola! Dov'andiamo? Si vola! Bravo! Andiamo qua, dai. Dove vuole. Dove volete? Se volete andare a... No? Scassiniamo casseforti. Perché siamo forti. Oh, grande Lorenzo. Con la piantina ci potevi fare un mojito. No, non lo bevo da un po'. C'è un po' di gente, raga. Ma va bene comunque. Arrivano, eh? Tutta la lobby c'è, eh? Sì, sì. No! No, no! No, regà! No, no, no. Vabbè, ma perché? C'è tutta la lobby, raga. Ascerrò la lobby. Assurdo. Manco forse Superstore di Verdask. Dai, è un posto normale. Sono safe comunque, in teoria. Non sono più safe. No, no, no. Ma non si possono salvare le armi una volta modificate. No, non c'è ancora questa opzione. Eh, vabbè, ma devono aggiungere ancora tante cose nel gioco. Non si può fare ancora, un peccato, infatti. Io non trovo un'arma, raga. Anch'io. Vabbè che qua non c'è un cacchio. L'Azzy Warzone. Sto giocando con l'Azzy Warzone contro Just Bono. Enrico Flav. Ero italiana. Dai, è un'arma. Sì, mica forse di tutti. Mi sono allontanato. Let's go! Si vince il gulag. Mamma mia, il gulag, è una garanzia. Hai startato pallò. Ma chi? Rinunci. Eh, vai, lui, per fare subito le armi bisogna fare quella roba là. Non c'è un botto di niente. E quindi per pigliare quella missione del cavolo, sono scesi tutti in là, peggio dei piccioni quando butti le molliche, oh. Chi l'ha fingato quel contratto? Io. Grande lupo. Buono, pk. Uh, tre kick con il cieco. Eh, se lo trovo, io non ce l'ho nelle classi, pensa a te. 90 stelle, le mie ultime stelle della vita. Senza canna, senza canna, senza canna, senza canna, metteva i proiettili, una volta che ho sbagliato a metterli, perché me ne aveva sbloccati lui. Io ho messo quelli straperforanti, tipo, che aumenta ancora più danno. Senza canna, il pk. Mh, c'hanno a base. Mmh. Mmh. Oh, quanta gente è di qua. Pusciamo? Ci sono, sì, ci sono. Eh, sì, ci sono, anche se c'è solo una mitraglietta. Andiamo da lupo, andiamo da lupo, così. Ok, ci siamo, se moniche. Mhanno beccato, mhanno beccato. Buttate. Mi pusha, no? Eh, sì, è un full team da quattro, è un full team da quattro, raga. Andiamo da lupo, raga, uno qua. Atterra uno, atterra uno. Fatto uno. Atterrato un altro? No, raga, 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 di te, mcchia, però lo dovete sbussare, dove stanno. un'altra terra erano fermato l'altro bruciato l'altro ma bruciato no 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 ecco è quasi spiastrato e gg 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 non dovevano reale capitati e vabbè dai vinci il culo che torri dai calco io avevo solo più solo una mitraglietta no way bro vai amico faccia l'amico dai 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 e avete beccato quelli del gulag quelli che ci hanno ammazzato qua cioè che vi hanno ammazzato qua cecchino cecchino guarda ho trovato il cecchino per fare le tre kill che volevi tu brodi vediamo un attimino se le riesco dai non mi fa prendere e non mi fa prendere munizioni no devono sistemare il lutto perché così non è possibile mi so già la ricerca di 4.000 e io c'ho 800 per gogna vergogna maio letto dove dove secondo me dalla parte apposta perché in base all'uab prima fu show e c'era gente da qui il capo fortissimo è lo so da robin lupacchiotta roberta buonasera la fotografa personale la mia fotografa personale barga restate su quanto avete no non ci abbiamo si simile il problema che ci avevano sparato si contratti non ce ne sono no 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 vai cazzo un carico per luttato qui davanti 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 a sinistra dove vai a sinistra c'è uno che tra questo davanti dietro le case quali case non qua dietro di te io sono io sono io sono io lui lui e non vedete il nome è un bug non vedete il nome niente ma anche anche sta cosa c'è è il più forte della lobby non esce lui questo sei schiantato con che ha fatto va beh dobbiamo trovare i soldi per loro vediamo se qua ci sta qualcosa eh si mannaggia discord mannaggia dopo ti sei ammaliato dopo la milano games ammaliato che caccia no io sto fresco e tosto per il momento pezzo di fango in pratica non lo so però in teoria sto bene in pratica c'è quattro bombe però è un seno dai andiamo a fare il contratto lì dai per forza no però devono mettere i soldi in giro per c'è non è possibile per resta una persona ci metti mezz'ora adesso metteranno l'arma nuova faranno aggiornamenti per forza e dovrebbero fare aggiornamento di metà season forse stanno aspettando per quello c'è una r che si chiama cimera ma con le casse bianche sono sempre le stesse posizioni dipende alcune sì perché se trovi le roccaforti vedevo un filmato di sì alcune sì alcune sì vai la trovi 40 mila dollari le avete le avete interessate chi volete e carrello questa è la mappa del multigiocatore io ho due bombe non lo ho qui ma è la rizio buona sega rizio come stai ti lascia i soldi al carrello che tu ce n'hai di più chi resta il primo eh sì dai ma ora troviamo anche i soldi per non ho lutto perfetto eh no questa me la devo portare non posso metterlo fermo 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 si può portare nello zaino dai che ci siamo dai pdf lupo lupo is in town big lupo is in town ma è finita è finita bella adesso buonasera buonasera 237 2000 2004 sì ma a me non mi avevano spiegato a scuola che per giocare warzone dove bombare la matematica cassa rossa vediamolo ecco lì dai dai dammi i 400 baggins che l'ho resto una pennec tutta sbloccata precisi siamo svizzeri qua precisi vabbè lui c'ha altri 2000 trova altri soldi laghi che poi fanno un po' di roba lo trovate lo trovate no io ce li ho ma lo resto così abbiamo recuperato il grino eh devi venire qui nelle casette a trovarle dai se lanciamo lottiamo ancora eh sì per forza non abbiamo niente almeno per loro per le armi eccetera guarda prendere la macchina uè Yolanda buonasera zio lupo il tempo di fare l'abbonamento vai vai Andrea vai tranquillo vai tranquillo bella Robby bella Roberto chi ho saltato? ho saltato qualcuno fatemi vedere un attimo la chat chi ho saltato? ma Rebir te l'hanno messa di nuovo? no no non c'era Roberto non c'è invece la calibrazione come funziona e ti devo dire che io un po' l'ho fatta vedendo è presente che in mezzo ci sta un un cerchio ti fa vedere cosa ti modifica più il rinculo più la portata più i danni io cerco da una parte di fare un po' una via di mezzo e da un'altra parte vedo anche un po' in giro prendo spunto cioè faccio una via di mezzo tra un po' me e un po' quello che vedo in giro però cerco di tenerlo sempre sul rinculo e i danni ovviamente che l'arma non deve rinculare e deve fare danno è forte guarda è assoluto è qua e tra l'altro deve essere veloce a mirare però non è facile non è facile farlo eh bisogna farlo la via di mezzo contrattino contrattino no quello lì fa schifo però quello fa schifo fermo fermo no quello lì no portami portami la parte no no quello lì fa schifo ok no non ci dà non ci dà tanti soldi o famo una taglia ma non sono le cassaforti e non ci stanno le cassaforti qua capito sono spariti tutti i contratti delle cassaforti boh vieni ma boh vieni facciamoci una taglia vieni in macchina vieni in macchina metti la terza corazza vice e mo se la metti in auto bello ti sei comprato l'operatore quello là della cdl della della code league che so di chi è di chi è la mi senti no mi sente e insomma non si capisce niente la che per lupo taxi sono diventato allora da warzone a taxi zone punto 2 0 è un attimo andrà l'acqua oh ma dopo mi pagate la corsa ciao meno buonasera ragazzi buonasera ma quando fai il taxi fuori di test allora oh chi è sceso questo è sceso lontano la taglia eh no la taglia sta qua ero convinto che fosse in casa no è dentro qui dov'è vai ma va dai va sta scherba che x oh l'abbiamo presa e ce l'hanno già uccisa incredibile va prendiamo l'altra c'è l'altra c'è l'altra eh ma sta vice dietro sali sali in auto sali in auto non lo scende va venga a piedi vai vai sono qua vabbè vabbè allora noi andiamo con la macchina no no lupo fake da no no fermi che la lupacchiotta mi ammazza se legge quello che hai scritto aspetta che vi lascio la sacca tre corazze chi l'hai tre corazze Baggins non ce l'ha Baggins il boom eh hai lasciato tutto avete lasciato che cacchio avete fatto no che cacchio ho fatto ma che hai fatto no vabbè ve lo giuro grazie calmi perché sennò veramente ci danno la 104 all'inbs fermi cioè che sta succedendo cos'è quell'elicottero fermi fermi no 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 saliamo su sto tetto raga siamo un attimo sui tetti che sennò qua moriamo tutti e quattro come stiamo io dovevo ancora fare per Marco le tre kill con quelli non vale quelli sono i bot le tre kill col cecco allora prova a prendere l'arma e vi lascio i soldi no controlliamo un attimo la situazione qua perché non me sta piacendo non puzza? non puzza puzza e puzza farà sì sono arrivati anche i bot davanti strada davanti strada ma sono i bot sono i bot alcuni sono i bot no però quello non è bot corazze viola quella è taglia quello non è bot corazza viola io ho preso l'arma raga l'ho presa mannaggia la misera Fabio come la luvacchiosa dici qualcosa no no non so niente no scherzavo punto esclamativo hanno restato hanno restato e hanno fatto l'avvi Matteo momento posso ah non sei Marco ah non sei non posso arrivo tartarubo la seca carcato dentro di me dentro a me come dentro di me no no oh non riesco a prenderlo no lo sapevo no raga lo sapevo faccio la brutta uomo ha distrutto camera di nella casa ma ora mi devo fare il gulag ah non l'ho già fatto no sono i bot quelli però non si capisce niente questo ma mamma mia quella è colpa di Beppe auguri prima ma che cosa fra a te risulta che abbia fatto l'isala no e non esce il cuoricino fra no non risulta lucky nel gulag vici l'ha fatto uno gg quello è vici ok ora mi esce il nome no vici a terra è la casa è la casa è la casa sono morto niente però da solo eh no ma siamo morti anche noi c'è lucky al gulag è rimasto solo Baggins sono morto ah lucky si nelle case non c'è capito niente sta partita io non c'ho capito niente sincero che cazzo di camper sapevo che finiva così e niente quel cecchino non è che quello faceva mezzo schifo quel cecchino lì però oh l'hai visto Baggins l'hai visto sotto la casa ti è passato davanti ma lì che guarda il piccione è un bot dici che è un bot quello sembra un bot della roccaforte può darsi però vedo che si sparano là dentro come si muoveva era un bot come l'hai rifatta tre volte si muoveva un po' lentamente però la fake taxi è dentro di me un attimo Nina Hill scappa Baggins Frodo allora aspetta fermo 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 che se no si è ingartato tutto mi mandi uno screen di qualcosa controlla ti hanno scalato i soldi o forse sei buggato e non te ne hanno scalati o lupo non attacca non attacca cominci a sbadia come ieri eh mannaggia la miseria mi sto sveando la mattina presto sto facendo un bot di cose arrivo la sera che sono un po' stanco a quest'ora no non sto sbadiando adesso ancora devo cenare tra l'altro quindi con l'aiuto perché non mi viene il sonno perché se mangio poi mi viene dalla biocca uè salvador buonasera salvador buonasera bro ah e a volte si bugga prova a entrare a uscire vedi se te la segna oh Baggins di tutto questo comunque è rimasto vivo dentro il gas cosa non l'hanno sparato non è che è diventato invisibile raga almeno se ne faccio uno ma però inizia a avere fame qualche cacchio mi scaldo c'ho le cotolette forse raga a destra è da lottare vai mandami lo screen fammi vedere una cosa no non la vedo vedi se ti hanno scalato i soldi mandami gli screen prova anche entrare uscita dalla diretta o da facebook proprio che magari a volte si bugga e poi te la segna ci sono i muri qua sotto dietro quel muro un attimo con la cosa che arriva eh c'è la sotto si se la trova eh 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 devi stare mirato però eh mirato si mirato non è perché hai scambiato l'arma quello non è come l'altro veloce è lento a scambiare l'arma qua eh è più lento vabbè ci riproviamo oh si è bugato no no non dirmi che si è crashato il gioco no oh qua ha fatto errore vabbè almeno non è crashato niente dovete rientrare vediamo se vi riesco a rinvitare io eh ok Baggins è rientrato ha fatto errore ha fatto crashare tutti siete rientrati a posto vai meno male almeno non è crashato te l'ha mandato aspetta c'ho il telefono di là me lo prendo dammi un attimo che c'ho il telefono sottocarica me lo vado a prendere dammi un secondo Rando mi ha fatto quello lì dentro l'ambito della casa mi ha fatto un manichino mi ha sparato ah ci siamo infilati a mezzo al casino che sono arrivati in botto con l'elicottero però sta roba esagerata cioè a un certo punto della partita non dovrebbero scendere più perché sennò non si capisce niente non si capisce niente aveva meglio stare in casa la campanella è difficile è proprio meglio che gli togliessero il botto non troppo fa schiena no ci sta la missione della roccaforte ma dai un limite entro il secondo giro perché dopo diventa un casino non si capisce niente non si capisce niente non si capisce niente non si capisce niente diventa DMZ poi allora vado a prendere il telefono vado arrivo tanto ora sta per startare 60 vai ora starta e io stavo mettendo una storia e vabbè poi la faccio allora aspetta che ci stai l'anno bloccato ok si è tolta la storia eccomi eccomi ok me l'hai mandato hai provato a chiudere facebook che rientrare non c'è la miseria si comunque ho visto lo screen perché se non ti compare devo mandare devo mandare lo screen a quelli dell'agenzia vabbè comunque dai dopo dopo ci sei per giocare sei per giocare non fa niente che non compare comunque hai mandato lo screen c'è sta tutto quindi però ti devono dare il budget assolutamente dopo lo mando pure all'agenzia glielo dico perché è successo pure a fabio l'altra volta allora dimmi lupo in un gruppo di un tizio mi ha inviato un abbonamento in regalo cosa ci faccio che non ci capisco no sta laggando no praticamente quando ti mandano sta laggando vediamo se si risolve se non usciamo vediamo se a volte le pre partita si risolve vediamo un po' è pure a me laggando tantissime no vabbè usciamo dai troviamo un'altra partita dai non si può giocare così allora stavanti praticamente quando ti mandano in regalo un abbonamento però di solito per un canale tipo il mio quando abbiamo fatto la challenge che praticamente con gli abbonamenti in regalo aumentavano le partite e sono arrivati vari abbonamenti in chat regalati se tu lo accetti c'hai per un mese niente c'hai il budget del cuoricino a fianco al nome sei sei sub del canale abbonato al canale ma non succede niente dopo un mese si leva e c'hai diciamo il vantaggio è che chi c'ha l'abbonamento per esempio nel canale qua mio e il mercoledì sera giochiamo insieme ho riavviato facebook niente vabbè devo avvisare i tizi di fb si è sub di rizzo è mercoledì sera pezzo di fango e buonasera ciro devo avvisare i tizi niente vabbè ci sei per giocare comunque allora niente cerchiamo un'altra partita fra perché quella era ingiocabile e si vuole aizzo aizzo bellissima eh ma lei è un pdf ma si è dimenticato il mercoledì sera buonasera manuel buonasera si ci sto fra dai allora dopo di questa se non si offende Baggins diamo il cambio che è entrato è stato il primo ad entrare capito dopo di questa vedi che c'è il party aperto tanto tra gli amici vittieri entri stesso tu buongiorno oggi ha avuto problemi fb tu l'hai fatta eh tu l'hai fatta proprio l'hai fatta oggi ora di pranzo eh proprio oggi ora di pranzo i server di facebook avevano problemi può darsi pure che ti esce in questi giorni però li avviso mo li avviso infatti non sono riuscito a streamare oggi ora di pranzo cioè ho fatto quei 30-40 minuti poi è crashato tutto pronto bella costanza mi tocca andare no Matteo vai a letto vai a letto era Matteo dai dai buonanotte a domani ok allora va bene vi lag a voi no mi sembra di no mi sembra che vada sta partita no ma no ok attenzione è uno fuori oh 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 saff legfam devo andare a mangiare qualcosa comunque lo pone ma god non lo porti più lo devo portare lo devo portare abbiamo avuto un po' da fare in questi giorni lo dobbiamo continuare assolutamente raff mi organizzo dai vediamo un attimino di riportarlo cioè di continuarlo in realtà e devo continuare god of war mi ero fermato a lo devi finire si mi ero fermato che eravamo arrivati nel regno degli elfi figo com'è ho visto qualcosina è figo è figo è una bella bomba è una bella bomba si poi vediamo di continuarlo dai cazzo forti era cazzo forti è che poi è uscito proprio vicinissimo all'uscita anche di warzone 2 ma è uscito pure questo e stiamo portando pure questo eeeh mmm mmm eh da qua non ci si può staccare lo andiamo ok andiamo lì dai io ogni tanto gioco e mi devo un attimo organizzare no mi devo organizzare un attimo col tempo trovo troppe cose da portare questo god of war da continuare volevo portare anche cta mi devo un attimo organizzare pieno ce ne sono due no di più però è pieno altro che due no cazzotti mi ha preso dai vabbè faccio cura che torna non mi fate ammazzare non mi fate ammazzare mi muto buona sera cosa sta moderatore peps c'era con me bannate tutte bella vincenzo bannate e beppe c'è troppa gente uno patto dove sotto di me c'è gente no non ti blocca let's go let's go ho detto che dicevo il culo e tornavo diamo diamo perché si bacca andiamo giù io ci sono quanti ne avete chillati di questi erano tanti erano tanti si si era un altro team allora c'erano almeno due team però il contratto l'ho presa ci possiamo spostare se volete ok 100 passi sono io forse ok e simone andiamo verso il contratto dai vai vai allora dobbiamo così facciamo i soldi per sangue baggins che ha perso il vlag dai vai io da quello su ma che io 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 fa tutto è tutto malutto vediamo se in teoria attenzione attenzione sempre alle persone ci può sta qualcuno del campurato ma Gio God of War Joe eh dobbiamo continuarlo mi devo organizzare col tempo zi mo mi organizzio poi dobbiamo continuare dobbiamo creare uno schedule come si dice una schedule una schedule una schedule può avvi ragà lo metto come si dice lo schedule è lì insomma il programma il programma settimanale ma mo ci organizziamo che ho delle cose in mente c'è gente c'è gente c'è gente c'è gente c'è gente si c'è gente ho pegato sono quattro divisi o due team no no uno due tre quattro sono un team eh si penso anche io che sia un team uno è qui ok fammi sali mi vorrei ma la faccio io la programmazione fidati fidati tu casa azzurra qui ecco oh mi hanno agganciato mi hanno agganciato che si sta esplorando perché è partito che cacchio è partito il camion ho tirato io attacca anche la fa oh sul tetto sul tetto si era pingato raga craccato 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 uno in volo uno è qui uno è arrivato in volo da voi uno è arrivato in volo uno è arrivato uno fatto sul tetto da qui da qui craccato con il fondo con sopra craccato a terra what è a terra no è stata confermata è la casa di fronte dalla casa di fronte si ma è distrutto c'è uno qui pure a me ma è distrutto eccolo 2 2 2 2 2 2 2 cazzo a terra sarrestabile vado con il fumogeno vado con il fumogeno sono due dove quanti sono due in quella al pig giallo qui ti ho chiusi in casa da te lupo sopra ma sparato oh qua 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 ma che cazzo 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 da dove sotto di te due c'era ma che hanno pushato io sono terra lupo ma si fatti tutti e due arrivo arrivo no non ce la faccio alla c'è il gub tranquillo ah che palle ci sono i soldi vale a prendere 3.000 vado 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 si prende i soldi di questi oh no no mi ha sparato un altro team madonna quanta gente c'è c'era quella quella casa col muretto alto audio audio maserato scusami dov'è buono dice c'è ancora gente qua da me li ho fatti quei due ma eh però c'è qualcuno che mi ha sparato qua non so da dove ha perso anche il compagno tuo si si lo sai qual è il colmo per un sordo sapere le cose per sentito dire e dopo di questa parte il ban per forza dopo di questa è proprio diretto senza proprio mai più essere sbannato è un po' cattiva un po' cattiva molto cattiva basta basta adesso è bannato da terra da te bro ok vai prenditi la sacca buono ok buono eh prendiamo il camioncino dai che abbiamo i soldi per essarli eh senti il carrello lontano fingatemi un carrello osservatorio no osservatorio no proviamoci ad entrare le idros ho fame tengo fame come è sceso uno al carrello come è sceso uno al carrello what sceso uno al carrello attento viso occhiala a destra alla destra attento attento uno cuzzio no dietro bro dietro c'è altra gente parca puttana pistol camion al camion al camion io non voglio mai prendere in mezzo a sto gioco per sto motivo qua niente sono morto ce ne sono due fuori ma escono tutti dalle case guarda che veramente audio 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 Let's go Grazie mamma mia Tubo contro tutti Che cazzo gli ho fatto Allora Dai i soldi che ci siamo anche Baggins Tutti 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 li ho fatti Non so quando erano però Taccide Pippo l'oro No fuori no fuori raga No dai stavo prendendo la roba E' qui da me in casa Sono due sono due Hanno le armi eh Si sta let's quitica E' al carrello Alle tue spalle lupo Non so uno è salito al secondo piano E' sotto è sotto Allora primo piano sotto E' sotto Francesi Eh ma è crashato vice Ancora Basta oh Quanta gente deve venire qui oh E che cavolo E che cavolo Guarda che non mi apre lo zaino guarda Aveva lanciapatate questo Bello quello con l'arma dorata Eh tanta roba Questa è forte Ma che c'avete il resto Ce la fate Eh dammi i soldi Baggins No non va Esce 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 fuori Esce fuori che arriva il gas Come non te li da No non te li da No vabbè sta tutto Buggato sto gioco Bella raga va 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 clippata tutta sta scena Raga porca miseria Che è successo là dentro Mamma mia Eh le vabbè Allora uccidili tutti te No vabbè Biscotti per tutti Signori Sono volati i salsicci E friarielli No non ha clippato Vabbè Dopo mi scarica Quanto è successo Un'ora e trenta di live Tipo Eh dopo Ha clippato Eh però Per prendere tutta la scena Mi sa che è durata parecchi minuti Eh Ma la devo Devo proprio salvare la La live E dopo la devo estrapolare Madonna che è successo Lì raga Avete visto lì raga La bisogna avere un attimo Pazienza Pazienza Quando Quando ti pushano Rispetto all'altro gioco Bisogna un attimo Andare più di 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 tattica Clipp 500 No non si può fare Al massimo è del 40 Clipp 500 Magari Clipper Punto esclamativo Clipper Oh che hanno tirato Bombarda Sì Ah no Sta arrivando il lancio Prova a vedere Ti dai soldi No Allora Proviamo a fare un Aspetta A sbaggarlo Perché l'altra volta Funzionava Allora Ti lascio Vai 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 Ah ok ok Ce l'ha fatto adesso Guarda là Si doveva bugare Quando dobbiamo Ressare C'è un altro shop Sì sopra L'osservatorio L'osservatorio Tostano appena Arrestato Eh vabbè Proviamoci dai Oppure No oppure Possiamo andare qua A sinistra Andiamo a sinistra Facciamo il giro Che quello è in safe Sì sì è in safe Buonasera Ivan Eh lo so L'Aki mi Mi dicono Che si sente ancora Un botto Il ritorno di voce Fra È vero Abbassa Abbassa Prova 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 No Ancora Non è che invece Bisogna alzarlo Piuttosto che Abbassarlo Prova Ad alzarlo Invece Prova A mettere L'80 Ho messo a 70 Prova 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 Eh Prova 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 O c'è che adesso Non dà più problemi Ti senti Prova 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 Sì sì La voglia Non fa più Sì Meglio Meglio Non dà problemi Prova 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 Allora pur tu Begis Devi alzarlo Allora Devi abbassarlo Ok Ok Eh Allora L'ho lasciato Prova 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 Ok No Non fa Non fa Non fa rumore Infatti adesso Prova Prova Si sente meglio adesso Non sei su caldera No Mai nella vita Fra Mai nella vita Ma fra Ti sei persa una scena qua Che mi sono fatto Quanti Quanti me ne sono chillati 8 8 di loro Fra Io da solo Ma anche Ma chi ci torna Di là Ormai questo È il mio gioco E poi torne Si giocano qui Non si giocano più Di là Sa Sa Prova Prova L'ho restato Però è qua Pieno di persone Eh sì Avevano La soglia del microfono Basta Quindi prendeva Un po' di eco Un po' Forse un po' Troppo Mi ha atterrato Un'elicottero Non l'ho visto Che ero distratto Fingate qualche arma Qua ci sta un'arma Prova Prendila Ho un cerchino 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 Dove Non lo vedo Te l'ho fingato Sulle montagne Questi devono venire in safe Ho visto Eh Tarato uno Due Continuo Cerato due Questa Questa E la cassa È solito E quindi Eh Dai Quello Lo che Non venga Non battere Cerrato Cerrato Una terra Cerrato due Stato in acqua Uno Uno L'ho ucciso Vabbè Lo resta io Restalo tu No Non ci ha pushato qua Ok Rimasto in fondo Oh Comunque ho sparato Ottanta cristiani Ma ha dato una kill Com'è possibile Ha tarato una Ha tarato due Ha tarato quell'altro Craccato Craccato è ancora in fondo Ancora giù Dai che palle però Non mi ha dato una kill Almeno un'altra Ma Che è successo? Eh dai Sembra lì Dove cacchio è? Che c'ho la master Eh ce l'ho anch'io Quella dorata C'ho addirittura Ma posso pure Temporeggiare Comunque l'ho killato Uno è sopra col paragadute Sopra col paragadute Corri Corri No vabbè dai Stavo già nel gas Aia No 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 Mingia Quanta gente Corri La dose mi sparano in volo E' finita Arriva gente The bag is Uno ci può stare un attimo Tranquilli Dai che mentre ricarica Non ti fa prendere la roba Questo è un altro bug Secondo me Perché che cazzo è? E vabbè No è impossibile È impossibile Sopravvivere a questa Ma come fai a sopravvivere Guarda là Guarda là Mannaggia discord Mannaggia È impossibile Si sono messi sui tetti Quelli a destra Che sparano Eh sono morto Sono morto All'aria Non cazzo è una bella partita Non cazzo è una bella partita E ma che ci è crashato pure vice a noi Cioè è crashato vice a noi pure Eravamo tre contro quattro Guarda questa Ne avevo quindici sta partita Potevo arrivare di nuovo a venti Sicuro A venti ci arrivavo Vabbè E vabbè Allaki Peccato regà Peccato Mamma mia Eh siamo trovati in brutta situazione lì Zio pera Ci vuole anche un po' di culo Con questo Eh eravamo Vediamo se riesce ad entrare Vice ci sei? Tre contro quindici In questo Assurdo Tre sopra la montagna Tre si sono buttati a destra E quelli sul tetto di fronte Madonna fra È più quei tre Che abbiamo killato Che ci venivano da fuori la safe Oh Quanti cacchio è bella Vice Si è crashato fra Proprio in un momento Sbagliato Si è crashato Ho fatto Ho deciso quello Ma ha crashato Sei una stella No com'era Sei com'era il detto Sei una stella No Com'è che si diceva Una stella cometa Una stella cometa Sei una stella sbagliata Ma sì Ma che cazzo Sto gioco è sbagliato Poca puttana Sto gioco è sbagliato Stissimo povero Ma come cazzo è possibile Ah no Sei sotto un cielo Sbagliato era la cosa Ecco Non mi veniva in mente Sono di un altro pianeta Sei di un altro pianeta Sicuramente sono un alieno Sei un alieno Va bene E non ti prende la connessione Su Marte Non ti prende la connessione su Marte Ti ho detto Casomai una stella cadente No io intendevo quell'altra cosa Ti lo faccio per me Assolutamente A proposito C'era anche tartaruga Dove è finito Ah aspettate Aspettate Ci sta Carmine Bugzone Ci sta Aspettate Fermi Fermi Aspettate Che dobbiamo Allora dammi Una o due partite Andrea Entri pure tu Doveva entrare Carmine Ci sei Carmine Partecipa stesso tu Se sei online Io ho il party aperto Quindi entri stesso tu Sei una stella cadente Atterrata di faccia Pezzo di un tartaruga Ci sei Ehi tartarù Ah ecco di qua Allora Signor Bilbo Baggins Dai facciamo Gli altri sostenitori Va bene Anche Ciao lupo Ciao ragazzi Ci becchiamo alla prossima Ciao 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 Un bacione Allora Dai famo Una o due partite E Poi ti lascia Uno di loro al posto Ciao Alin Allora Ma mo come si fa Da abbandonare Aspetta Ah ma ha staccato diretto Baggins No ci sei Se faccio Spelli No ha staccato La play diretta Eh perché Eh no L'ho dovuto Butta fuori io Perché se no Si bugga Cioè quando Stacchi tutto Che non esci Dalla party Rimane poi dentro Allora Ciao Alin Buonasera Benvenuto Allora Baggins Ci saluta Spero che Viene in chat Così ci esegue dalla chat Dimmi tutto E anche te È successo Che ti si blocca Proprio il gioco Devi uscire dal gioco Sì a volte sì Eh beh ragazzi Non c'è da meravigliarsi No eh ma Non c'è da meravigliarsi Qua Europa ci toglie la corrente Come vi toglie la corrente Hanno fatto la legge Dove Dove sei tu Dove sei tu Non sei in Italia Va bene Zio Lupo Benvenuti So BugZone Bella bella Mi tieni tra gli amici Sì ti ho accettato prima È vero Ti ho accettato prima Ti ho accettato prima A posto Abbiamo già fatto Entri stesso tu dopo Cioè partecipi Così Lupo Non vuoi streamare più Ma attacco Al palo Del comune Ma attacco Non ti preoccupare Gioco della madonna Che non funziona La miseria Non possono togliere Cioè nel senso Non possono farlo Ma pure se lo fanno Io Cioè A chi ci lavora con la corrente Non possono togliere Per lavoro A chi lavora Allora Allora Ho sentito solo il discorso finale La corrente che va via No Diceva Alin Scriveva che Vogliono fare La legge Che la sera Non si può utilizzare più La corrente Eh vado con le candele Ma se metto Se metto le candele nel pc Mi fanno corrente Come si fa a capire Si vede una pallina rossa In cielo Si vede una striscia rossa In cielo Ai carrelli Così si capisce Il mondo è fatta a scale C'è chi scende E c'è chi sale E c'è pure chi lo No Sto con l'Aikos Eh perciò Devo togliere la webcam Io non posso farlo in live Che è una scocciatura Lo so Però Buonasera Ulita Eh Non si può usare L'Aikos in live In realtà Non si può manco svapare Ma fra tutto svapare Sabe l'unità Come va? Come stai? Allora E la madò Questa è forte Questa qua che ho beccato contro è forte Oh ancora non ho trovato i livelli Oh io sono già a livello 250 Ancora non ho trovato un livello 250 contro No vabbè 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 Che è successo? Questo mi ha dato del cheater Questo mi ha dato del cheater Buono Ho dato del cheater Fra lo puoi capire Ho premuto per sbagliare Uno questo stava scendendo col parra cadute L'ho ucciso col pala No vabbè Signori tartaruga Cheater E Dipende com'è Non l'ho vista Quando esce Non è che sono Ci vado proprio appresso La uso perché non c'è stato niente di meglio sinceramente A parte Eh lo svapo L'allergia di zio pera Eh politiche di facebook Ivan Politiche di facebook Sull'altra piattaforma si può Qua no Sono politiche interne Di fb Come devo dire Di là si può o qua no C'è chi lo fa anche qua Ma non si può in realtà Dorniamo Lì Siamo lì C'ho l'allergia Madonsca Devo andammo a fare le prove allergiche Perché bisogna capire Che allergica Sarò allergico al polpo A le cotolette Allergia a cosa Al polpo e alle patate Allergia a cosa C'era il prelottino di questo lunedì Per il 5 dicembre Ci devo guardare Non lo sapevo C'ho un amico che lavora dentro In teoria Non mi ha detto niente Forse non ci lavora più Forse non ci lavora più Usce la gente Io ho intenzione di farlo schifoso Prendo l'RPG No ha preso l'RPG Guarda là come sta camminando Guarda là Uno sul tetto Uno sul tetto da voi Che schifo Come sul tetto da voi Pure sul tetto No io c'ho solo il cecchino Da mano L'hai fatto con l'RPG? No Ma l'ha fatta un'altra Ma sei safe sopra? Sul tetto Aspetta che sia blu No no Aspetta che Oh che botta gli ho dato Che botta gli ho dato Sul cappellino A terra Eh ma mo lo resta C'è l'amico pure Mi sa là sopra No cazzo Col bomba E' uno in casa? Eh si Quello che non ho Atterraevole Caraccato quello che vi pusha Caraccato quello che vi pusha dentro Vi pusha uno Io volevo confermare Ti pusciano in tre Zì là dentro Eh wow Fra sono entrati in tre Fra che schifo No 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 Stanno arrivando Sì siamo stramorti Siamo stramorti Io c'ho la pistola Col cecchino Aspetta Provo a fare una cosa Resisti fra Che fai oh No fra tu sei un pazzo Vai 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 Li ho tirati verso di me Ma che hai fatto L'esca umana Sì Qua lupo perde il pelo Ma non li vizio Quello mai Ah vabbè Che roba è successa Non potevo fare altro fra Eh io scappo Ma fin dove posso scappare Boh io faccio Gli uvanite Assurdo 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 che Come è iniziata sta partita Quell'altro poi si è restato pure Dai Facciamo così Il cecchino me lo tengo Questo non è male Sono andato via ma Eh mo vi devo restare tutti Avete perso il gulag Gulag Socrates Eh signori La partita si complica Abbastanza Alla patata No 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 Stavo scherzando Non sono allergico Però mi devo fare Prove allergiche Io sono andato da Come si chiama Dal dottore Lì a Torino Eeeh Mi ha dato l'antistaminico Però ha detto Devi fare prove allergiche Dobbiamo vedere Che culo A quante cose si è allergico A tutto Io ho detto A tutto zi No Di solo No Fuck Ah sei in Romania Tu Alin Sei in Romania Eeeh Il cecchino L'SPX Non è malaccio Tu Oddio Quello sotto Tre colpi Se lo prendi in petto Se lo prendi in testa Un colpo lo metto a terra Niente a passo Oh vici abbiamo Eh vabbè No però vici abbiamo I soldi per uno Andiamo andiamo Prendo l'elicottero Mo leggo Alin Mo leggo Spero di averla clippata Penso di si Penso di si Ah no Non sei in Romania Vieni 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 Ma io ho una domanda Ma l'elicottero Che perde la benzina Qua no Che la consuma Ma dove vado a fa Non si può Eh sempre la bomba di benzina E come c'entro Con questo costo Dentro la bomba di benzina Oh Scendi Bravissimo Ma Sei passato Ci stanno in piazza qua Ma non pensavo Che Quindi quella Ti distrugge Sì se ci passi sopra Ti distrugge Non lo sapevo Sì S'entrava sta cecchinata È sceso uno col paracaduto E' proprio Da prendere in volo Eh lo so Ti sto vedendo Vabbè ma da quando Ma quindi Quella cosa è vera Non è finta No 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 È assolutissimo E non lo sapevo E mo lo so Praticamente Stavi per fare la fine mia Oggi pomeriggio Ho preso l'elicottero pesante All'aeroporto Praticamente L'ho parcheggiato in moto Sopra Sopra una casa E poi che è successo Sulla casa Buona sera Dalilu Niente Ti faccio i moto Io sono sceso Dammi il tempo Dopo lo leggo Io sono sceso Mi sono fatto due tizi Sono risalito Ed è finito il carburante Mi sono Inblocchiato sulla montagna Ti è venita a me Vici Non stare là Che c'era Eh lo so bro Mato shot Mato shot All'aghi Dice Lo troviamo nel bulbo Da di nuovo A terra Questo che roba è Fatto Fatto Eh devi rì di qua Io so Non andare a prendere il camion Che poi ci spostiamo Andiamo a restare Ok Per forza Eh ma push out Col quad bro Non poteva scappare Ah ti ha push out Col quad No c'è un tizzo qua Eh no so L'ho visto Eh vabbè Aspetta bro Voto Mamma mia Eh Eh c'è un problema Per fare sta giocando Ho dovuto distruggere il camion Siamo Siamo tornati al punto di prima Siamo a piedi Ma quanto ragazzo l'avevo C'è un giocottino questo Uè ho giocottini Forca di quella miseria Ma ti pare che devo Beccare sto tizio qua Ma poi mi ha distrutto Devo andare a vedere che arma Aspetta aspetta Oh mi ha distrutto Tutte le piastre prima Che ci aveva? Ah Ci aveva l'arma sua Ci credo Eh stavate Allora io vado a domenica Comunque dico le cose Come stanno Assolutamente Non ho capito Aspetta che ha scritto Comunque Romania ha tolto la città La corrente Moldavia Dicono che la danno La corrente Ma fra un po' Con la corrente Siamo loro schifo Non è che E che comunque Ci sono loro Che decidono Determinate cose Oggi stavo in uno squadrone Fausto Capaccione E tra Chi giocava con una gamba sola Chi non giocava proprio Mi dissocio Buonanotte Vincenzo Come procede? Guarda come procede Sei bloccato Andiamo in partita Procede che Il gioco Funziona ogni giorno meglio E devo riavviare Aspetta che riavvio E nulla Vabbè Se vi posso dire una cosa In realtà Adesso è successo Proprio in un momento Giusto Tra virgolette Perché comunque La partita Si era messa in modo difficile Quindi meglio Che cracciata adesso Che la partita Dove avevo 15 kill Che la me incazzavo Vabbè Riavvio C'è troppa corrente In questa chat E leviamo la corrente A Capoccione Dov'è Capoccione? Andatemi un attimo Sto riavviando Ma tu Danilo Ci sei per giocare? Allora Dove entra sicuramente Andrea E Mone Fammi un'altra E poi entra Andrea Ma che Perché 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 il gioco C'è pieno di problemi Sì Operone Aspetta Non si è neanche avviato adesso Andiamo bene Sta mettendo un po' Dai Niente Vabbè Vabbè Fiamo un po' di just chatting Nel frattempo Ogni tanto mi crescia pure a me No Ma tutti È proprio un problema del gioco Vuoi avviare la modalità? No È il gioco ma è pieno di problemi Anche di questo Spero che fanno il prima possibile aggiornamento Ok adesso è andato Raga Uh Ah mo bene Fino a che stai? Ma fino all'una ci sono Mo Mo dove devi entrare Sicuramente Andrea E poi dopo Andrea Fammo qualche altra partita Entri tu Uè Sei entrato? A posto E gli altri dove stanno? È crashato a me Si è bloccato il gioco È crashato Tanto per cambiare Come ha fatto a te prima Sì Sì Voglio Unbelievable Eccolo qua Eccolo qua Carciofino Tartaruchino Manca 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 Lucky Lucky Strike Dove sei Lucky Strike? Pezzo di un Lucky Dove sei? Eh mi è crashato il gioco Tanto per cambiare Infatti Infatti io mi stavo a godere Eccolo Ah vabbè Ma vabbè Guarda ciò sta Allora Allora Dai Fammo questa Lucky Poi serve il posto per Andrea Va bene Dai dai Cerchiamo di vincere Arriviamo fino in fondo Just chatting online Che ti dà problemi Adesso sì 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 Ti vedo Alin No è il gioco Il gioco C'ha problemi il gioco Che ogni tanto si blocca E bisogna riavviarlo Bisogna rivalutare The Sims Appena sei crashato Siamo passati A settanto È normale Fra Ora riprendiamo Pronto Pronto ci siete Sì sì Oh ma faccio qua Sono ancora mezzo conciato Ma ti sei preso qualcosa No è crashato l'Achimo Ehi No Aspetta Speriamo che Che magari è solo una roba Che gli ha dato errore Ma non è uscito dal gioco Aspetta che cerco amici Lucky Strike Dove sei? No lo vedo Lo vedo L'ho invitato Ok Che ti è successo? L'ho tapposto? Crashato Crashato Va bene GG Da dove l'hai scaricato? Cosa? Cosa Alin Da dove l'ho scaricato cosa? No Punto escamativo Bronchenolo E dice Guarda Se fai punto escamativo Bronchenolo in chat In automatico Ti arriva il corriere a casa Te lo porta Te lo bevi Stai a posto Per una settimana Lupo farmacista Prendi la tachipirina Poi se vuoi Ti porto anche io la tachipirina Certo Eh cosa? Cosa? Da dove l'ho scaricato? Cosa? Cosa? Il gioco? Da Battlenet Ah Warzone Da Battlenet Dal programma Battlenet.net Su Steam che è meglio Su Steam Eh ma C'ho tutto qua sopra L'ho scaricato da qua Dopo hai visto il Dolphin Hop Con scivolata e doppio salto La trovi utile come skill E la trovo utile per correre Però non per fightare Più per altro per essere più veloce Quando corri Quando O magari quando ti sparano E devi scappare E devo cambiare ancora Quel pulsante lì Salvador L'ho visto L'ho visto Ma non l'ho ancora attivato Perché devi cambiare un'impostazione Nel controller Però Eh lo so Ma ormai ce l'ho qua ragazzi C'ho tutto l'account qui Gioco da qua Gioco da Battlenet Arrivo Arrivo subito Sta startando Arrivo Vado in cucina Preparate l'attrezzatura Sta laggando Sì Lagga lagga Sì Hai capito che non è serata Io mi sa che Faccio questa E Vado dal mio amico Che mi faccio sbloccare M13 su DMZ Quindi faccio l'estrazione No sblocco Non è serata Non è serata Per niente Cioè Guarda come lagga Ah vabbè Riscaldamento finito Prepararsi al lancio Sulla zona di guerra Server di topolino C'ho ne migliaia Server di topolgravo Il disco Vado Cazzi fuori di testa Mi sono preso il gingerino E poi ho messo le cotolette Aspetta che non mi sei Allora Ho preso il gingerino E ho messo le cotolette A scaldare Che sta succedendo In chat No per niente Povero B-bro B-bro Ti serve l'M13 B-bro 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 Praticamente ti sei andato A scaldare la cinta E ti riscaldare Eh sì Allora Dove Dove stiamo Andiamo Stiamo andiamo Andiamo Stiamo qua Dai Prendiamo la taglia Dai che in questi giorni Mi dovrebbe arrivare Pure il pad nuovo Allunga il prosecco Mò si bruciano le cotolette No Non è vero Ma quando Prendi un biscotto Cosa porterà Le potete mangiare Le cotolette Team Ma faccio un biscotto No Io Bruno Resto a giocare Mi lagga tantissimo Ma come ti lagga Sì Mi sto a scatti No Mi sta laggi Mi sta scattando Pure a me Che sta succedendo A me lagga Vediamo se si risolve Eh ma lagga brutto Ma lagga era pure a loro Se lagga a noi Se laggi pure tu Non ti possono utilizzare Uccidere Boh Non saprei Vedo Vedo laggare tutto io Mentalità Toscato Se laggi anche tu Anche il nemico Non ti riesce a prendere Non funziona così Oh my god bro Ma che sta succedendo No Caccato Mi ho buttato La RPG in faccia Io penso Io penso Che è una bella cosa Gli animali Dovrebbero essere libri Di appoppiarsi No 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 Aspetta Che cazzo No A parte che sarebbe Un po' simile Sopra da me ragazzi Sopra da me Peccato E dopo se faccio la settimana No Eh ma Buono buono Aiuto 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 Prima che muoio Prima che muoio Salva Che è successo Che è successo No C'è uno lì C'è uno qua dietro Vabbè Vabbè Facciamo a circolare Lasci un girafante Grazie per voi A terra Vai Collate un'altima nientata Andate al Gulag Andate al Gulag Voi sì che siete professionali Non ho capito a cosa ti riferisci Ma hai visto come laggava La pro Una voglia Ma continua a laggare Ancora 100 Ma parca di quella Belli si server Di topolino Parca miseria Ti aspetto al varco Quale varco? Vabbè Devi sapere che questi server Sono giapponesi No Quelli funzionano meglio Mi sa Sono made in Giappone Che mi caricasse l'arma E' arrivato il disgraziato Il secondino Dai come ho fatto A non prenderlo Sì sì Cotto Cotto come un riccio Ma fai ingrippare Pure a foca La fa trovo Leggirò Ci faccio Ah no Scusatemi Eh non l'ho visto Perché ce l'ho in basso Ufficio stampa Attende le faccime di foto No Con le due Strafazzoli di scelta La feppa indossata Non ce le ho io Chi le ha fatte? Non ce le ho io Non le ho fatte Con il mio telefono Io quelle che ti ho girato Quelle c'ho Chi le ha fatte Quelle foto? Frate Che non sono giuste Perché Perché purtroppo Sono motivazioni giuste Eeeh Eeeh Che vi posso dire Per il momento Io sto qua Ancora Oh ma ha chiamato il bomb Ha chiamato il bomb Hanno tirato il bomb Qua Attenzione Dove sto io Eeeh Eeeh Non c'ho la maglia Ma quelle le pubblico Eeeh Poi pubblichiamo tutto Perché Devo pubblicare un po' di foto Su Insta No Sta fuori Bella Fatto Fatto Ci bella Lui la La Gli ha dato il colpo di grazia Oh Non mi ha aperto il Che state combinandola Che state a fare un casino Mai visto Sì Avete finito Eh niente La cazza vuole mondiale Cioè che avete fatto esplodere L'adventro Eh Tipo con lenti Niente Devi capire che ci sto io Pericolosamente Con l'RPG Quindi Mannaggia Mannaggia Esci Esci Da qua Esci Ho passato il reel B bro Ho visto Ho visto Ho visto Però Quello lo voglio far fare Vabbè Poi vi spiego Lo voglio far fare Da A terra Eh non lo posso dire Live No ci sono Ma c'è un'altra No 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 Eh si è bloccato Dai Ma dai Dove è uscito questo qua sopra È là sopra Laghi Là sopra Morto Laghi Sono un po' in posizione Alcuno di voi ha il Gulag No Fra Vattene via Non ti conviene Non ti conviene Vattene via Vattene via No sono 4 E c'hanno le armi C'hanno le armi Oh vado via Corri 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 Io Sì Nel letto Nel letto Io alle 17.40 Ci sto Devo fare tutti con l'RPG No le devo fare per forza Quelle foto Le devo fare per forza Le devo pubblicare Sono contenuto Sì comunque Sostena VR È giocabile Io Io stacco Con questo Allora Ho sentito Ho sentito Va bene Va bene È bello tosto Oggi come giorno Ieri era un po' più easy No per i lag È pure perché Sta laggando Sì No stanno esplodendo I server oggi Allora Stavaddio Dove entra Andrea E Danilo Ce stanno Andrea Danilo Pronto Allora Dopo di questo Entrate voi due Devo fare tante foto Devo fare Foto con la maglietta del Napoli La foto con la felpa Foto con la maglietta Quella là La foto Mo che arriva al pad Quello lì Personale De Gattuso Perché c'è Tutti i loghi Anche lì sopra Sta la scritta Lupo Bianco È bello È bello Me lo sta facendo lui Me lo sta facendo Mi ha fatto vedere Qualcosina È quasi pronto Devo fare la foto Anche col pad E E poi E poi Non lo so Ce ne stanno di foto Che dovrei fare in realtà Ah poi devi pubblicare Foto del Games Week Chi è? Chi è che non c'è? Ok Andrea C'è sta A posto Dopo di questo Entrate E non so Danilo Dove è finito Ok Gattuso mi ha detto Che gli hai messo Anche un hashtag Eh? Io mi hanno perso il carrello Ho messo un hashtag Che hashtag io ho messo? Ho messo l'hashtag Gattuso Il Che poi Anche se muoio Non fa niente No non mi viene Vai accendi Anche io accendi Accendi Il bel No I quadri I quadri Cosa ho riferito a Mannaggia Quello In faccia Ai quadri Dobbiamo fare una clip Di quella cosa Ma do troppa roba Fra Vabbè ma No mi sto organizzando Ti lascio i soldi? Sì No Sul pad Mi ha aggiunto un hashtag No Che roba mi ha aggiunto? Dai Il carrello Ma vedete Questo non lo sapevo Non me l'ha detto a me Vai lupo Non me l'ha detto Oh ma non ti ha piaciuto No Gattuso Non mi ha detto Che mi ha aggiunto Una roba sul pad No Eh no Non me l'aveva detto Pezzo di fango Sì Eccolo qua Comunque Non lo vorrei dire Ma Siamo di nuovo Nella zona dove hai fatto Con la giocata pazzesca In che senso L'ho dovuto pagare? Ma Dai io non ho capito Ma l'hai aggiunto tu? O l'ha aggiunto lui E l'ha dovuto pagare? Non ho capito Soldi 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 Uavvi nemico In zona Guarda A che numero sei arrivato? Io sono arrivato a 37 Io sono arrivato a 30 Andiamo Abbiamo resta Quanto abbiamo? Mille Mille Duemila E C'è manca ancora un po' Dobbiamo resta vice Io ho uno Non sto capendo nulla Sei tu che praticamente Gli hai fatto Allora sei tu che gli hai fatto Aggiungere un hashtag Sopra No vabbè Che gli hai fatto aggiungere E no Lui non me l'ha detto L'ha tenuto Ovviamente segreto Come sorpresa Ma che cazzo Sta roba Ma no Ma perché Eh sì Lui l'ha dovuto far fare Poi al grafico Se hai fatto aggiungere qualcosa Quindi quella roba Va pagata Sì ti sto trollando Vaffan bagno Dai ma sarà che mi ha perculato Io ci credevo pure Vedi che ci stanno armi qua C'è pure una attacca a grappa Chi è che va a dormire? Buonanotte Buonanotte E chi è andato? Dove sta l'attacca a grappa? Lo puoi restare Comunque mi sa No Mille 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 No Ho detto una cazzata Ah 500 No ci manca Sì poco 500 Questa Vati Ok Sì ce la facciamo Sì sì Andiamo andiamo a arrestare vice Vergognati Rulita Vergognati Dovresti sentire ridere Vergognati Vai c'ho 4000 Vado a arrestarlo Comunque c'è l'attacca a grappa Ancora lì Vado 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 Comunque prima o poi devo assolutamente comprarmi La scrivania nuova Mi serve un altro monitor Per leggervi meglio Eeeh Mo non posso mettere il terzo monitor pure La scrivania è troppo piccola Non ci entra Attacca a grappa qua eh Nell'acqua a 40 metri Mo vengo a prendere più a io Allora missioni Robbe niente Andiamo No Oh fra ma qua c'è un po' A parte che qua c'è l'RPG tuo qua dentro se proprio vuoi Però Sì te l'ho lasciato io lì Ah a me No no è chi lo vuole L'ho lasciato io lì che mi sono preso Compro una casa Bibru Compro una casa Bibru Non ne parliamo No Oggi papariggio Ravamo in squadra Io l'ho Luca Pagione e Pausto Non aggiungo Ah me l'hanno detto Me l'hanno detto Eeeh Com'è andata Che è successo Vi dicono che avete fatto faville Buonasera Emilia No Buonasera Buonasera Eh no Dobbiamo andare sopra Eh ma tante nutrivi che siamo qua Non si può fare niente Corri Corri Butti a mare Oh Oh No Mi sono buttato sui cazzi Aspetta che volendo Cioè No vabbè ma tanto Guarda là C'è solo una mitraglietta Aspettiamo Il terzo giro Ece lo d'auto Infatti Vabbè lo facciamo così Io mi metto a bruca l'erba Aspettiamo ragazzi E adriano combattere Sono tutti morti Tranne l'unità Rischieramento a sorpresa Io voglio fare una seconda win Porca puttana Ce la faccio Dai 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 Ce l'ho vinta con te Ti ricordi Proprio che partivi per Nuova zona sicura Voglia mi ricordo Nuova zona insicura Marcata Dai dai Quanto esce al terzo giro Tra poco dovrebbe arrivare Tu che assombre Già 31 Eh in teoria si Dovrei stare 33-34 Però dipende Se me la contate Quello è lì Che c'era il bug Che non le contava Eh se non le ha contate Mi ha levato 16 vittorie Stup Eh direi di tembordeggiarcelo Un attimo qua Sta arrivando il lancio Sì Che è che arriva 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 Mio nonno No No Ma mai quando un nemico Mai quando un nemico Non parli con altri What? No io adesso Mauro ho disattivato La roba che senti I nemici Perché non si capiva niente E non riuscivo a giocare Facevano un board Era divertente Ma Ci morivo il 50% delle volte Perché facevano casino A parte che sta giocando più multi bro Perché ancora sta livellando le armi Eh ancora sta con le armi Da livellare Ma pure io ancora non ce l'ho tutte livellate Ho l'attacca Ho il pk House legale Ma lo so L'altra volta ci siamo sentiti male Ha giocato Ha giocato Ha giocato Con Rizio Era solo ridere Praticamente Ciò volevo che venivano Volevo che venivano Di me Di me Di me Di me Di me Sono morto Sono morto Eh io ve l'ho detto Ragazzi è andato in bocca a loro No te si è salvato Venite a prendere il lancio Io sto venendo da te Vi ci devi andarti via Dall'altra Nessuno No che è solo Aiutatemi raga Aiutatemi Se c'è un tipo che spara dietro a uno Però Vanno in casa Stanno in casa Dove sta il loadout Dov'è? Qui Qui Avete visto dove il loadout Beh era arrivato alle armi Io porca Io non posso crederci Però Eh Vi ho detto La Vi beccate col team Vi beccate Perciò ho preso L'altra parte Quello per esempio Da qua non lo posso mai prendere Ce n'è uno giù sott'acqua Visto che è nuoto anche Ce n'è uno giù sott'acqua Il fondo Ah c'è il lancio pure qui a mare Ecco perché nuotava sott'acqua Bene Mi che ha le M4 Eh M4 è forte pure Mi che l'hai distrutto Vedo andare via la roba Di quello che non c'ho più Emunizioni No c'ho quelli sul ponte Coprite l'uppo Raga Coprite l'uppo Dov'è? Qui ho solo il ponte Ecco Soldi buoni Sì Soldi però Appena 1.200 Vabbè Mo rifacciamo Eh facciamo Se killiamo qualcun altro Eh sì Sono due team lì Che si sono beccati Mo Mancano 24 Quattro giorni a Natale Non lo ricordiamo Per favore Non lo ricordiamo Non lo ricordiamo Non lo voglio sapere Yeah Sì Mangierò come un borcellino D'India Mangierò Ma raga Prova a luttare Per i soldi Sto pushando io Eh Due team Eh sta arrivando 500 500 Andare stato al carrello Eh c'è nel camion lupo Sono io vicino a loro Volendo potrei dover Sparare Ma vaffan bagno Sì sei passato il camion Ma se n'è andato Se n'è andato Io l'ho chiamato Uno in casa qua Sì mi hanno appena sparato Non so da dove Sì esatto Tetto O finestra Tetto Sì tetto Uno sul tetto Tre Due Uno Niente Non sono riuscito a prenderlo Vabbè State facendo volate tutto Lì sopra Comunque niente Prima un invo Ho dato il nemico Ha chiamato No Sì No 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 È scemo È scemo No 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 Fra 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 Aspetta Citta Aspetta fra Buon luck Buon luck Attenzione Buon luck Buon luck Eh È dietro i muri Fra Ah È dietro i muri Mi ha sparato dietro il muro Speriamo di no È iniziato a spararmi dietro il muro Senza sensore Ma magari t'ha sentito che vassi No No C'è gli attri Quelli tipo perforati No ma le armi Vompegano Però se le rpk Buca il muro C'avevo silenzio di tomba Fra Non mi poteva mai sentire Però strano che Le armi vompeano Le armi ti vompeano Ma questo Qua C'è a terra Non mi ha contato la kill L'ha data a te Sì Te l'ho fregata Ah ok Ok Oh bro C'hai soldi Guarda che c'è la safe 4000 Eh ma là non posso andare Perché è pieno di team C'è un altro carrello Cazzo Ah ho sopra osservatorio Devevano uscire adesso Dalla safe Eh l'ho visto L'ho visto È arrivata anche l'amico Mi mangio Mi mangio Mi mangio Mi mangio Io niente Non posso fare più niente Eh non possiamo Fare più nulla Al momento Ma no Vabbè Eh ho visto Ho dato una bella botta Col cecchino Lo so Ma non lo posso Ma è una sorella da terra Le armi Le armi Le armi perforano Nelle pareti E' reale Non è più come premo Mi spara dal muro Ma che Quindi non Ho già ammazzato uno così Tra la parete e l'altro Ti avevi il gulag Tu non l'hai già fatto Ma l'ha fatto attraverso il muro Una cosa strana Eh sì No Eh si può Se no Le armi In alcuni punti I muri I muri li bucano Alcune li bucano Proprio Che fa fuori A terra quello Quello l'ho confermato proprio Diverso L'altro dove è passato Da sotto No no Il gas mi ha messo a terra Per andare indietro No mi sono salvato io Non venire qua Non venire qua Non venire qua Eh non sono andata C'hai proprio uno lì Penso dove stai scendendo Craccato La miseria Oh ma sei tu Mi hai fatto cagare sotto Mi sparano addosso No one shot one shot Ma non sono entrato i pull? Eh no ho smirato un pochettino Alla Eh peccato 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 Ho smirato Lì stava in vantaggio Comunque stava sopra No non gli è entrata la granata Gli avevo tirato tipo L'accecante L'assordente Quello che avevo Ma è uscita fuori dalla finestra Cioè Hai visto che là c'era la finestra Dietro di lui Cioè Hai rimbalzato talmente tanto Che è andato dietro la finestra Che sfiga cazzo Eh vabbè Allaghi Buona sega Che armi hai bro? C'ho l'M4 col Vaznev L'M4 scioglie Bella Giovanni Buonasera bro Eeeh Fa paura Così è bello l'uomo Aspetta Eeeh E' meglio E' meglio Va bene Vado a sbloccare l'M13 Va bene vince Dai Andrea Allora se ci sei Vieni Un abbraccio Bella bella Ciao ciao Vieni pure tu Danilo Beh Lupo grazie mille Aspetta aspetta Dammi un secondo Vediamo se ci sono tutti e due Sia Andrea che Danilo Vediamo Vediamo Facciamo questo così Vedate il cambio tipo Come quando fanno le sostituzioni In partita Vedate un attimo La mano Così Un bacetto E via Grando Ci siete Eccolo Eccolo Andrea Posto Buona sega E tra Danilo Allora ci sono Datemi Datemi la mano Datemi il braccio Sotto la doccia Buonasera Zio Lupo Aspetta che sto bevendo Buonasera Buonasera Ciao La ghia Alla prossima Eccomi Eh lo so Devo andare a vedere Le cotolette Se si sono bruciate No no Ti prego Allora Questa qua Questa qua Aspetta che devo far vedere Un attimo la classe Questa è l'M4 Salvato Settato così Ti devo dire Forte però Rincula un po' Infatti Lo cerco di tenere Io un po' più stabile Cioè da lontano Rincula parecchio Da Da quella distanza Dove sparavamo No Cioè è gestibile Però se devi sparare molto lontano Rincula Non è facile Però è fortissimo Così Oppure Oppure Questa qua Ah ma il Vazenev Delle M4 C'ha il set sbagliato Sì me ne so accorto ora Quello l'avevo cambiato io Ah cazzo Eh no Lo devo sistemare Ah oh porca di quella Il set giusto è questo No Me ne so accorto ora Ma porca di quella Stavo giocando con la Vazenev Sbagliata Allora Come compensatore F-Tac Castle Canna 1,30 1,30 Sdeghete E non c'ho le impugnature Sono aspettate un attimo Raga Non ci avevo la volata Vedi Che era l'F Come si chiama L'F Castle Eccolo qua La canna è giusta Il calcio è sbagliato Che io sto usando L'O3 E questo era il True tac 45 colpi Oh Bene Questo è il set giusto Eh sì infatti mi trovo Andiamo Incredibile Eh perché le M4 Non lo so Comunque Io lo voglio Sono scarsissimo Ma ti avviso Oh no no Vabbè andiamo Andiamo Cerchiamo di fare il possibile Signori Numero 27 Vado a vedere le cotonette Oh devo correre Arrivo Grazie Alla prossima Ho Grazie Ciao 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 Grazie a tutti Bella, bella, eccomi qua raga Come erano le cotolette? Come 7 del PKR Eh, lo sto finendo di livello a un B Però è fortissimo, è fortissimo C'è uno del mio team che lo sto usando Io devo chiedere a lui il settaggio No, non c'è Però appena lo sento domani Mi faccio mandare la foto perché è bello forte il PKR E io non lo so settare al momento, ce l'ha il mio amico Il mio amico di film Un DMZ? Allora, ti direi una stronzata perché DMZ l'avevo fatto veramente poche partite 3-4 partite Nel sito Sam, ma tu dici Quello per sbloccare l'M13 Quello dove ci sta Eh, l'M13 L'M13 si sblocca nella nuvola tossica Eh sì, si sblocca nella nuvola tossica Però prima era successo un bug Che non si vedeva il chimico E quindi tu andavi la, facci fuori tutti e non trovavi il chimico Però noi abbiamo Eh sì, poi l'hanno risolto Però noi l'abbiamo sbloccato in un altro modo Sì, l'hanno risolto però l'hanno peggiorato L'hanno peggiorato? Il DMZ è un po' idane Sì, l'hanno risolto L'hanno risolto dalla parte che tu dici L'hanno risolto dalla parte che tu dici L'hanno dato in dotazione la scuola speciale Lupo, ma qua se io sono sull'aereo e tu ancora stai facendo la prepartita No, ma va un 20 secondi dietro Ah, ok Allora, hai capito? Mi fa fuori tutti, mi fa fuori il chimico Stavo con questo Andiamo Non c'è capito niente No, vabbè Ha capito, ha capito Eh, non mi piace questo posto qua Sto mangiando Ok, ok Non avevo ancora cenato Eh, sì Vediamo che la prossima non lagga Deve uno sistema subito si server Perché è una partita lagga L'altra pure Poi un'altra no Arriva gente O zio Perone Ah, ma questo è l'osservatorio No, ho abbandonato la partita questo Diretto GG Ma perché abbiamo vingato Ma porca miseria, ci siamo divisi Ma chi è che ha pingato di qua e di là? Io no E io avevo pingato l'altro No, io ho pingato giù E tu Non lo so Oh, cazzo E' morto da lì No, è sceso No, no, mi ha laggato Eh, vabbè, dai No, eh, mi sono spezzato le gambe perché mi ha laggato Ah, è poco di quello Guarda lo fa Oh, bellissimo Sono rimasto solo io vivo Bellissimo Sì, sì, sì Sopravvivi, sopravvivi Ma vinciamo a cura che veniamo da te Oh, vinciamo a cura che veniamo da te Siamo dietro e penso che lo giochiamo, eh Dovremmo giocare insieme Eh, lo so, zero po' Oh, cazzo a questo Mi scherzo la lingua Per la lingua Sì, dietro Inizio a destra Sì, anche perché poi Vi sto attento Vi sto attento che là ti serve la maschera Per entrare Siamo adesso E E tra l'altro E tra l'altro poi c'è il tempo, eh C'è il tempo per fare l'estrazione Non devi far scadere il tempo Uno l'ho fatto da Nive Ci sta l'altro Non lo vedo Eccolo, eccolo Di fronte, di fronte Ah, l'ho visto, l'ho visto Dallo spondo nostro praticamente Dove siamo nati noi? Sì Ah, visto No, one shot, one shot, Dani One shot Non ha le piastre Eccolo Da te, da te Vai Grande Passato Passato Se puoi C'è un'arma, eh Eh Non puoi capire Che è curato Grande, grandi Sono tornati tutti Ok È stato un momento di debolezza Eh, no C'era un'altra C'era un'altra Quella che fantasse Quei miei compagni E i due affersati Che stavano fermi Oh Guarda che attivo Cioè, tutte e tre fermi Loro io ho fatto Prima la mossa Da uno E poi l'altro Non so come sia successo S'è svegliata Però è morto Svegliata Eh, ma capi quanti sono, eh Eh, non ce l'ho reso Quindi penso che siano tre Cioè, no, sbaglio Stanno qua Stanno sul tetto Eccoli Loro ha pingato Ho visto L'ho rotto A terra Ma lo puoi essere Sono il botto Eh, attenti Aia, aia, aia Sono dietro Dietro di me Dietro di me Stai col... Hai spe... Sta da me Nooo Sta dietro 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 Cala fennec bro Eh, fai la forte Ho chillato Minchia scioglie sta cosa Ma disciutto Ma disciutto Con la fennec C'è la fennec Eh, ce l'hanno nello zaino però Sì, ce l'hanno nello zaino Eccola qua Oh, è entrato Guarda qua L'ho distrutto pure io Guarda quanto fa paura Sta cosa È devastante Arriva un altro Mi sa E' praticamente morto C'è un altro Supra di noi Sento passi, eh Eh, sì La terra Stanno le munizioni Della fennec Di lui da Ma è sul tetto Dove cazzo è? Fra, lo senti? Sì Sì No, no Sì 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 Oh, chi è? Nooo Mio Dio Noo Che palle Eh, va a voi Vedi che ce l'hai sul tetto Attento, ce l'hai pure sul tetto Andrì Vattene, vattene, vattene No Pezzo di fango Oh, bombardamento Deve hanno fatto L'affanculo Pure sulla casa di fronte No, la vita di poco È un posto Voglio esagerare Ma che? Eh, siamo partiti male Vabbè Vabbè Eh, brutto 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 Vado a fare Vabbè, vorrebbe che mi gusti Il mio caro a lontani Il mio caro a lontani Eh, vabbè Io sono scarsissimo D'altronde Quindi Dai, dai Vingimi il suo culo C'è con lui Ci sono stati attaccati La cazzotti C'è il condito in arrivo Buono Bella Bella Il pugno bionico Ui, che vinto C'è il soldi wireless Eh, ma oggi C'è il fabbio Che fai soldi Dove andiamo? Eh O ce ne vai lì È l'unica Se non fai quel contratto Non fai soldi per restarci Secondo me Ti conviene più qua Sta fuori Di safe Non penso che vanno Eh, ma no Sta arrivando la safe Un minuto Non ce la fa Non ce la fa Temba a prendere il contatto No, non ce la fa Non ce la fa Eh, ci provo Prova Ci provo No, già sta camminando La safe Vabbè, vai, vai Vabbè Che quella lente è safe Che sto fissando io Ma è un bugo Tutta la life Sta guardando a me Che gioco Sì Esatto Che brutto Vabbè Non bisogna sentirsi Sì Sì No, no Io le mie kill Le ho fatte Stavamo a 5-6 Poi abbiamo avuto 80 persone davanti Non c'è possibile Non c'è mica Se c'è i git L'altro metodo Per l'M13 Praticamente se c'è un amico Che l'ha sbloccato E ce l'ha Ce l'ha proprio Nello zaino Dell'armadietto Lì Del Di MZ Quando ho iniziato insieme a giocare Cioè lui lo mette come arma Che si porta dietro Che la lascia Tu la raccogli Andata a fare l'estrazione E c'è Sbaglio Hai fatto la missione Fine Io ho fatto così Mi dissocio Arrivo Al carrello hanno arrestato E attenzione Eh sì Non è che ti voglio mettere ansia Però attenzione Ti ricordo che sei la sua Eccomi Ah ho quasi grido la cotoletta io Ah è bravo La cassa Buona Buona Dove sta la milanese Dietro dietro la cassa Andoi Dietro C'è una cassa Ma questa qua rossa La cassa Scusate bro Andi va qua Non l'avevo visto C'è gente C'è gente C'è gente Ma questa non è la zona dove Ho fatto esplodere tutto io Prima lupo Sì Sì È questa qua Dove eri un pdf Sì e dopo poi Dove ci hanno ammazzato tutti Dalla montagna E questa è la zona Comunque Ho aperto 80 casse E' andata in giro Tutte le case Guarda là Sto ancora con 2.800 in mano Sì ma sto fatto Lo devono risolvere Comunque Non si trova Oh Passi 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 Basta Ho finito Da abitare sì però Come spiegavo io Da lontano tipo Mitraglioni come Rall RPK Da lontano Sciolgono di più M13 Tipo come l'M4 Mio C'è non da molto lontano Ma comunque da casa a casa Eccetera scioglie Però se poi lo vuoi prendere Se la vuoi sparare Più lontano Non fa quel danno Ci vuole un'altra arma Tipo mitraglioni eccetera Infatti C'è sta il mio compagno di squadra Che a volte Quando giochiamo Fa sempre quelle 3-4 kg in più E usa l'RBK Ma non li vedo mai E che li spara da lontano E li distrugge proprio Io con l'M4 Non riesco a arrivare Fino a dove arriva lui E niente Sta con 3-4 Che responsabilità E' tutto nelle due mani Praticamente Se invece Se invece Del coso lì Del silenziatore Usi gli slot Per altri oggetti Praticamente diventa Senza di ingono Con l'arma Quale? L'M13? L'M4 Ah l'M4 Se usa il progetto? No no Anche normale Il slot A favore Che ne so Ottica Canna Caricatore Sotto canna E il calcio Dipende senza De ingono Tra l'altro Eh sì Dipende come lo calibri Però C'è una cassa dietro Comunque Ecco Ci sono più i soldi Là Dello scaffale Dietro Là C'è una cassa Da dove sei entrato Allora Da dove sei entrato E quella là Rossa Lo faccio un guazzo Piglielo 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 Giubbotto Piglielo Attento che arriva il gas Aspetta Pingo un altro Allora C'hai 5500 Quindi a posto Puoi già restare uno Allora Tu Tu non la usi ancora No perché Non ce l'ho ancora livellata Raga Ce l'ho al Mi pare al 10 Ce l'ho al 10 Non ce l'ho ancora al massimo Non c'ho l'accessore giusto Però mo gli mando un messaggio A compagnia bella Mando un messaggio A quello del team Come si chiama Che gli chiedo Se mi manda la foto Ma io so che Riesci a mandarmi la foto In questo gioco Proprio Una cassa Da camera Sì Mamma mia Ok Me l'ho chiesto Allora è forte Ma ce l'hai già rivellato La stai rivelando moto Ma ne posso chiedere la foto Della rvk Il settaggio Certo Io ho chiesto A quello del mio team Se mi manda la foto Mi sa che me la mando domani Questo l'ho migliorato Perché prima Scivolava la gente Si alzava in meno Di 20 secondi E ti sparava Chi L'altro warzone Sì Qua dipende Qua pure Pure ritrovi I draghi C'è il center Eh vabbè Però mai Come Non puoi mai Avere mai quel movement Che avevi di là No no assolutamente no Tutto nelle mani Di pingo pallino Attenzione Apri il paracaduto E lo chiude Gira sulla fascia Corre Attenzione Non lo ferma nessuno Si ferma Guarda intorno Attenzione Corre con la palla Arriva No c'è un ostacolo Camion Non lo vede Non lo vede Prosegue Allora lui si accovaccia Prova la giocata Dell'invisibilità Si è fermato al carrello Io ce l'ho al massimo Pure il progetto Ho preso la DMZ Hai trovato il progetto Nel DMZ Cacchio Io mi sa che non ce l'ho Non ce l'ho il progetto Mi sa Eh non ha letto Me lo manda domani Cosa? Audio Me lo manda domani Audio 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 Oh che stra Vediamo se riusciamo Non ha testato al carrello Eh si Quello là Il tizio del camion Andiamo a Berlino Beppe Che ha spiegato maledettamente soldi Invece di tagliare Andiamo a Berlino a Beppe Oddio se riesce a fare questo rest Andiamo a gula Beppe No Allupo 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 Come si fa? Ok Vai 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 sono tornato Sono tornato Eh mon casino Guarda là Il camion L'hanno fermato proprio Dove sta il loadout Secondo me si sono fermati Eh si sono fermati In mezzo alla rotura Ci posso provare No i ping sono bancati Uh l'hanno preso L'hanno preso C'è un No Eh si C'era C'è gente All loadout No Oh Dove si fa io Oh dobbiamo assaltare il cavallo vicino a te Dobbiamo assaltare il cavallo vicino a te Li ho visti Stanno qua Qualcazzo sono Li vedo Eh io ho sentito il doppio resto Infatti per io Eh l'ho visto L'ho sentito pure io Situazione un po' È brutto È brutto È brutto È brutto Stanno sulla sinistra Vabbè però Io prenderei una cosa Possibile Prenderei qualche Mio Io prenderei Fungo per la Vittoria Prenderei il furgoncino E scapperei Nooo Davanti Madonna 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 Ma l'affanculo Ho sbagliato Perché hai sparato Oh Ah no Che lei No sono io Sono io C'è un po' di peggio Nooo 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 Non è morto Spiastrato Prova a scendere da te Eh sopra Sopra Eh ce n'è uno sopra Ma ti prende a prendere Ah vaffanculo Eh l'ho visto dopo Alla Non mi fa vedere la visuale Di come mi ha ucciso Perché Eh c'è il tac pure Che è forte Che c'aveva poi Oltre attacca Fennec No Il tac Il pds V52 Ragazzi scusate Vai tranquillo Vai tranquillo Allora Sì sì Sono sempre fuori rotta Un beh Eh Sì lupo Si chiama nastro segnaletico Fa paura Mio ci guardo Guarda ci guardo al volo Se ce l'ho Fammi vedere L'rpk Ah il 12 l'ho portato adesso Ce l'ho il 12 Eh no Non ce l'ho il project Infatti io non ce l'ho Vabbè Mi mancano pochi livelli Devo Beccare un attimo Un momentino In cui io lo livello Lo finisco di livellare Qua dentro O vado sul multi Tanto C'è i livelli Non so tanti Io l'ho complato Già sto livellando No vabbè Avevo Tac e ponte Eh il tac è forte Ma io devo cambiare Ho visto che lo stanno usando Senza sottocanna Senza il mirino VLK In realtà Che è più forte Senza quel mirino Lì Però l'M4 scioglie Pure scioglie L'M4 Sì l'M4 L'M4 Fa paura Fa Io lupo ma tu ci credi che ho nemmeno un'arma C'è sì ce l'ho Però nel senso Non ho sbloccato nulla Ah ok Non c'è manco un'arma livellata No No Il lupo è Vabbè Se facciamo i soldi Te la lascio io dal carrello Beh l'arizio Eh procede Procede Che diamo gli schiaffi Prendiamo gli schiaffi Diamo gli schiaffi Diamo gli schiaffi Li prendiamo Non ha trovato la partita Allora vediamo Ce l'avevo Non ce l'ho più Nelle classi qua Forse ce l'avevo sul multi Vabbè me la metto qua Aspetta Io ce l'ho un settaggio Ce l'ho Lo devo vedere Ah Wow C'ho anche il progetto No ma non va bene Questa qua Va rifatto Comunque Io faccio l'ultimo E poi Faccio l'ultimo E poi vado eh Che domani Alle sette e mezzo L'anno Aspetta che te lo trovo Ce l'avevo salvato Qualche parte Vediamo se lo trovo L'ha aspettato te lupo eh Stasera ho aspettato te Sennò Già era a letto Ha detto A che ora vai a dormire Ma verso mezzanotte Le undici e mezza Devi capire che io Faccio consegno Con il furgone Quindi sto Tutto il giorno Sul furgone L'inchia Aspetta A mo te lo trovo Cioè Ce l'avevo da qualche parte Dove è finito Ma ce l'avevo Mi ero salvato la foto Zì Ce l'avevo Ce l'avevo Forse la ritrovo eh Vediamo Sniper Sniper No Non mi interessa Dove è finita Che penso Uh Trovata Ehm Ok ho trovato la foto Ho trovato una foto Che me l'avevo salvata Comunque Però mi sa che Questa partita Mi legge quella schifosa No Con l'RPG RPG No vabbè Eccola qua E vabbè Dopo la faccio Perché non so Non si legge Da qua Non si legge Troppo piccolo Dopo la faccio Comunque trovo la foto No Dopo la setto Dopo sta partita La setto Così ve la faccio vedere FSS Aspettiamo qual è L'FSS L'FSS FSS FSS RECON Il RECON Quello ha un colpo Non lo so Non mi convince tanto Anche se Non lo so L'FSS Sono RECON O L'URECAN Quello è colpo singolo Comunque Ma lo so No Meglio gli assalti O i mitraglioni Vai 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 Pincate RAL RRTK Distruttivi Sì sì Sono distruttivi Ah per esempio Ho notato pure Il ZN3 Con la doppia Con la doppia Dico Le doppie pistole Doppie Dico Sì Eh sì Quelle pure Fanno malissimo No Non pistole automatico Quelle 50-10 Sarebbero praticamente Ah calibro 50 Sì Vai l'ho preso Eh No Sono distruttive Praticamente Ti danno Siamo morti Due colpi Con il primo Ti danno Ho trovato No dice 50 colpi Mitraglietta Una mitraglietta L'FS L'FS Ma mitraglietta Forse lo chiamo Diversamente Ah la Hurigan La Hurigan Ah la Hurigan È forte Prima ci ho fatto Il devasto in casa Non so se hai visto Mi so chi l'ha Dotto persone Forte però Non c'ha la mobilità Della Fennec Eccetera Un po' più Sembra più fucile d'assalto È poco mobile Sì infatti Questo secondo me È un errore Che hanno fatto Eh In alcune situazioni Non ti riesci a muovere bene Se sono situazioni In cui ti pushano In più di uno Occhio Che è successo? Ci è gente Nooo Aveva messo La L'C4 Per far esplodere La cassa Ti fa male Se stai vicino No no Pensavo che qualcuno Si avvicinava Capito? Possibile che non è cesso Nessuno qua Eh Qui c'è la cosa più strana Eh sì 50 colpi È la hurricane Per forza Eh Ci ho fatto il panico Se volete Ho la cassa munizioni Buono E qua Dove scappi? Ah ma Ti sei a sparare con uno Chiamacelo Ah vabbè Appena sceso Z Ce l'ho visto dire Sì eh Mod trovi Quattro persone addosso Vabbè Vabbè No Se succede così Ma dove è andato questo? Ah Quittata Eh S'hai andato Era da solo E Se n'è andato Ma no Ho fatto l'uomo Ma ossendo Ok Abbiamo fatto Manca l'ultima Manca l'ultima cassa D'altra parte Eh fra Visto che lo pushavi Ha visto che era da solo Con la pistola E se n'è andato È uscito dalla partita Eh sì Ma È uscito dalla partita Perché praticamente Gli ho dato tre colpi Tre colpi L'ho distrutto Cioè Gli ho tolto tutto No way bro Proprio per non essere volgare Gli ho tolto anche i pantaloni No No Gli ho fatto Quasi cercata Non ho capito Gli ditti 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 Bucchi No Comunque Catania devo organizzare Devo organizzare Cioè Non so se avete visto le storie C'è una bella sala LAN E Vediamo Vediamo se riesco a organizzare qualcosa Mi sa Che me potrete trovare a Catania Poi eh No Sì vabbè Lupo internazionale Signore Vediamo vediamo Work in progress Vediamo se riusciamo a organizzare Che magari Gioca streamo da lì E Ovviamente Ci possiamo Incontrare là Oh Finalmente Ma andiamo al carrello Volete farvi le armi Qualcosa Eh Sì 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 Ma non l'avevo visto Minchia Da 10.000 a te Andiamo Andiamo Che schifo Stacco Dovevi visti Vai 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 Tutti al carrello E Devi tenere il tasto giù Premuto Ti apre Lo zaino L'inventario E poi premi L'analogico destro E ti lascia tutti i soldi Ok Grazie Lo tieni premuto fra Cosa Io basta che lo tengo Il tastino Per aprire il zaino No basta che tocchi Ho sbagliato Ho detto Vieni premuto Vuole il tastino sotto Comunque ve lo dico Ok allora Come si deve fare Tasto sotto Vai sui soldi R3 Ok Fatto Ok Tu come la Me la fai un'arma Eh sì sì Mo se Tartaruga mi lascia Dei soldi Ti prendo la Mi arma Eh sì Dove 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 Come Dove 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 Fiamo una brutta fine Vedi Vedi Sta qua L'M4 Grazie 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 Posso Fotto L'urricane Anzi No No Se la vuoi Ah vabbè Ti sembra Manca te Danino Eh sì Dammi Dalle M4 Ah no Aspetta La do Io Vai Vai Stiamo facendo Sto passaggio Di armi Guarda la Contrabband No vabbè Contrabbandiere Lo puoi Contrabbandiere Chi no Vai piano Mi raccomando E' una bella storia Questo non è il BMW Madonna L'abbiamo passato Di tutto Questo non è Non è il Range Rover Ah no La barca a mare La barca a mare La barca a mare Bru La mare Ha la barca Atterrato il guidatore Atterrato il guidatore Chi è morto Io No ma nonchè Sta fermo Vabbè Vabbè Andiamo via No Se n'è andato Se n'è andato Guarda Avevo pure atterrato Uno sopra Peccato Vai U Attenzione Pista Lupo Mi raccomando Piano che queste Annoleggio Stamacchina No I tendi Li accendi Dalla Se è qualunque E quelli Dell'agenzia Di Activision Hanno detto Che l'idea Dobbiamo Li portai In terra Ah si Non gliela posso rompere Non è tutto Non è tutto pagato Oh Gli ammortizzatori No vabbè Ero un pazzo Vabbè Prendiamo sta taglietta Qua sopra Eh si Però dobbiamo salì Aspetta Guarda là Devo fare manovra Sali tartarù Sali Ah no ma sta qua Mi ci trovo Fatto Oh ma stanno qua sopra Stanno venendo da lui E' eliminato L'hanno ucciso Ah come? Allora c'è gente C'è gente a casa Allora sicuro Sì sì Oh oh Mi mirano Eh da dove? Dove? Qui 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 C'è meno 15 Dove? Oh zanfax Oh 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 Mamma mia Eh non mi riesci a capire Stanno sotto Stanno nelle case giù Stanno Oh pericolo Stanno attirati tutto Ma che stanno a fare? Eccolo Arriva il nostro attacco Perché non lo vedo Dove ho bombardato? Stanno sottando di qua Uh dietro dietro Uh uno è salito sopra Pucciato sopra Oh vada chissà Eh io provo a far giro A tornare su raga Come ho fatto a salire sopra? Eh non lo so Stava sotto Tu sai c'è qualche lupe Oppure c'è qualche fune L'ho atterrato L'ho atterrato Fatto Fatto No No ce l'ho dietro Ce l'ho dietro No in che senso? Ce l'ho dietro no Vaffanculo Eh mi è passato davanti Gli ho sparato Non l'ho visto l'altro No vabbè L'altro è qua L'altro è qua Qua tartarua appena sali Dove stai tu? Dove stai tu? Dove stai tu? Raga l'ho visto Gli ho sparato No da dove? Non lo vedevo fra Boo No fra guarda questo Da dentro la roccia Eh speriamo che riesca a vincere il gulag Da dai vediamo di vincere il gulag Baccato dentro la roccia Io non so come ho fatto a girare la stu Non lo so neanche io Peccato che non si può rivedere Non si sa Siamo in attesa nel gulag Oh oh Salve Dove vuole andare D'est o sinistra? Eh boh sinistra Però attenzione Perché buttano le granate a sinistra Anzi vado a centrale No Ma che boh Ma che cazzo? No No Ho spaccato uno No ho perso L'abbiamo perso pure noi Uno ho spaccato E l'altro mi è rimasto Eh l'altro l'ho spaccato anch'io Con un gol un colpo solo Qua c'è la Così imminendo No eh ma prima che lo fa Peccato Prima che lo fa Eh vabbè Non fa niente Lascio sta Ah è andata male Mi è crashato il gioco A chi? No E' bello che l'abbiamo sentito Avete sentito voi? Sì Mi è crashato il gioco Ha detto Mi è crashato il gioco Boom ed è esploso No io non ho capito niente Stavo dicendo È crashato Andrea Eh ma lui mi aveva detto Mi sa che andava Doveva andare Vediamo Vediamo Eh non lo so Dimmi 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 Aspetta Se con la racconda Sbagli i colpi È finita Eh lo so è finita Ma io il primo Io l'ho beccato Dato one shot L'ho beccato L'ho rotto Con l'altro L'ultima riesce a farla? Dai 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 Vieni 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 Allora dobbiamo Vabbè partecipa a SS2 Dobbiamo aspettare un attimo Che ria via Il mio fra Non capisco Perché non sia morta Comunque Cioè Gli ho messo tutti e cinque i colpi Tutti in testa Gli ho dati Mi ha dato solo Solo io Aspettiamo eh C'è soltanto che Andrea Sta tornando Che è crashato Vabbè vabbè Dov'è? Ok la vedo No non me lo fa invidare Eh devi entrare tu Non me lo fa invidare A voi me lo fa invidare? Eh io non ce l'ho Tre due amici purtroppo Eh ha detto invitami Se no Sei buggato Eh non ti fa invitare Io ho il party aperto Prova a partecipare tu E anche a te ti fa partecipare Si è buggato Perché lo vede ancora Nel party nostro Aspett Fermi Fermi Dobbiamo ricreare il party Secondo me Eh aspett Eh devo ricreare il party No Aspett Come caccio Si leva Come si esce dal party Allora Mo lo rifacciamo Aspett Allora Lo rientrate da me rega Rientrate da me L'ho invitata fra È tutto un bug È tutto un bug È tutto un bug sto gioco Vediamo se adesso Dove funziona No Neanche Va Neanche cambiando il party va Che palle Com'era Com'era Oh che casino Perché Danilo Danilo manco lo vedo online Com'era Recenti Aspettate che si è bloccato tutto Lo vedo da qua Neanche lui vi fa partecipare Ah ok Eh dovete invitarlo voi regata qua Ok ci sono ci sono Zalupo ci sono No e manca qualcuno di noi Chi è che manca Ma manca tartaruga Tartaruga Ah perfetto Vai vai ci siamo ci siamo Aveva parato È buggato Vai start Ultima Vai vai start 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 Vai Giocare con voi ragazzi È bellissimo Invece 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 Un'ottima Di palla Eh beh È normale Infatti Con voi Per dire Un piacere No È normale Se no Puoi diventare a giocare Il singolo Però poi ovviamente Dopo un po' di scotch Buonanotte Buonanotte Ha detto L'RPK Ha detto Che ve lo mandava Comunque Mol set Vediamo Ah Tipo Ah Dovevo fare Resetaggio della Fennec, vero? Della Fennec. Ehm... Laser... Ehm... Eh, no, me lo sta mandando. Manca. Manca. BLK. No, che è, uh. Poi, la canna... La X10, possibile? No, non è la canna l'X10. Dove è la canna? La Stoke of Attack Lockting. E non è... Oh, che sta succedendo? Errore! Che nooo, dai, però! Vabbè, aspettiamo che mi rinvitano. Ok, partecipano. Ehm... Senza canna, possibile? Aspettate. Allora. La Muzzle X10 RR... X10 RR... Ehm... Dovete rientrare, dovete rientrare voi. Ah, eccolo qua. Dovete rientrare voi, regà, perché Zio Perone... Di nuovo... Cioè, ha fatto... È crashato. Ecco qua. Siamo tutti? Siamo tutti. Sì. Calcio, F-TAC Lockting. Ok. Ci siamo. Mi manca... Magazzine. Mi manca... Magazzine. Ragazzi, ve l'ho mandata la richiesta. Allora... F-F e Sharkin. Un barrel... Un barrel... Ah, è il sottocanna. Ok. Sharkin 90. Ok, questo è il sottocanna. Sono io, sono io, sono io. Stavo facendo... Stavo facendo il sottocanna. Stavo facendo il sottocanna. Stavo facendo il sottocanna. Stavo facendo il sottocanna. Tranquillo, zio. Del... Zio Pera. Stavo facendo il sottocanna. Stavo facendo il sottocanna della Fennec. Pezzo. Pezzo di fango. PDF. L'altra volta gliel'ho detto... L'altra volta gliel'ho detto... A un collega di lavoro, no? No. L'ho detto sei un pezzo di fango. No, vabbè. Lui si è incazzato. No, aha. Uh, ma ho mandato... E poi gliel'ho spiegato. Hai spiegato perché... E mo dovrebbe venire lui a scrivere il live. Pezzo di fango. Allora, Castovi. La volata, la Castova Dix. Non so se ce l'ho. Castova ce l'ho, ce l'ho. Uh. Ok, forse ci siamo. La Castova, Vix, Pineapple. Eh? Sottocanna... No, eh... No, per... Ah, perché sta più qua. Al marzapane. Vix, Vix, Pineapple. Allora, c'ho quasi tutto sbloccato. Possibile ottica VLK. Mi sa che pronuncerò ancora. E invece l'ho. Chi è che sta sbruffando? Io, 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 io. Impugnatura demo. Scusate. Ah, è l'ultima. Non ce l'ho sbloccato. E poi c'era il calcio sdeghete. Eccolo qua. Oh, l'RPK ce l'ho quasi in realtà tutto sbloccato. Mo lo proviamo. Se riesce a prendere il lancio, lo proviamo. Eh, bello, bello, bello tosto. Devastante. Io l'ho usato, l'ho usato stamattina. L'ho usato stamattina. E c'ho fatto. Non vedo, non vedo il monitor. Non vedo il monitor. E io pure, c'ho un vero. È tutto oscurato, yes. Ok, 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 ok. Tutto me lo scurita. Sì, sa che lagga. Lagga bestia. Sì, sì. No. Ma io. Venisci. Mamma mia, zia, è forte. Pure se mi mancano due accessori. Ma sì, è replicato fortissimo, fratto. Buono. È replicato fortissimo. È replicato fortissimo. È replicato fortissimo come arma. Io ti stavo di prima, l'ho usato stamattina. Ci ho vinto il singoletto con 22 bombette. Tanta roba. Io non capisco come fate tutte queste kill, comunque. I cheat, i cheat, i cheat. Beh, a volte è pure fortuna. A volte è pure fortuna. No, ci vogliono pure le mani, va. Vabbè, io ho comprato quelle usate di lupo su Amazon. Cioè, c'hai i cheat e poi c'hai le mani di cazzone o di legno. Ah, io te l'ho detto. Mi sono comprato quelle usate di lupo su Amazon. Quelle dell'anno scorso, la prima serie. Sì, sì, sì. Eh, 290 dollari. Le erano usate o... Sì, su eBay. No, ha passato due lupo. Hai scritto usate... Usate al 70%... Eh, ho visto, ho visto quello che ha scritto. Ho visto bene quello che ha scritto. Usate al 70% se no, erano usate. Ah, buone, buone, dai. Sì, sì, no. Funzionavano ancora abbastanza bene. Non preferite a produttarmi. Comunque continuo alla gara, non so. Voi? Eh, sta laggiando la gamba. Ehi, è andata di ping. Sì, è andata di ping. Sì, è sempre l'Activision. Sì, mi putto in acqua. Ma muori se ti putto in acqua. E le lecsono nemico, comunque. No, non è. C'è gente? Sì, tu, qui c'è andato a prendere le armi. Cuda. Se ne è trovato un po' di entrare, ma, eh. Finchia, mi prende la roba dopo 80 anni. Oddio, sto volando. Eh, mi sa che crasha la partita. Sta laggando brutto proprio. Qua c'è un'arma. E nel frattempo ho sgraffignato il botta al lupo. No. Ma perché non mi prende le armi? Eh, le prende in ritardo perché sta laggando. Sì. Ehi, guarda là. Guardi, c'è uno qua. Qua dove? Eh, fratelli. La Hurrican. L'ho lasciato la Hurrican qua. Che cos'è il tattico folklore? No, no, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Tattiche? Tattico folklore. Boo? Ah, praticamente dovrebbe essere come... Nascossa elettrica, tipo. Ah, sì, sì. Fulguratore. Nascossa elettrica. Sì, sì, lancia una scossa elettrica che gli fa sparare a caso. Oh, frondal, frondal. Che magari mi fa entrare. Eh, ciò può fare lì. Spaccati tutte le due, bravo. Spaccati tutte le due, queste. Una a terra. L'altro mi sta facendo me. Ecco. No, stavo cambiando l'arma. Non c'era un altro ancora. Aspetta. Fermo, fermo. Fermo. Vai. Vai, vai, vai. Su altri due, su altri due. No, io ricordo che ne è fortissima, fraynord. Ha laggato, ah, ho decano. Eh, anche a me ha laggato mentre sparava quell'altro. Infatti colpi non c'è entrati. Comunque c'è qualcuno qua dentro, se non lo sbaglio, eh? Eh, io lo c'ho. Ah, sì. Quanti, quanti sono? Uno, uno, uno. Come entra a destra se non si sposta? Ma sta subito, è subito. Gioando il Gulag, eh? Vai, vai al Gulag. Vai al Gulag, che pezzo di fango. Vai al Gulag. Kill live? Sì. Laga pure. E guarda che si va. Laga pure al Gulag. Quello che ho capito, cerchiamo di vedere se si è di. Eh, vabbè, ci abbiamo. Ci abbiamo scontratino. Eh, penso che ho perso, eh. Andiamo a comprare. Ciao, ciao. Laga tutto. Dov'è? Eh, z... Noddio! Dove cacchio sta? Sopra. Sopra o fuori? Non riesco a capire. Vabbè, ho perso. Eh, ho perso il Gulag. Lupo, tu hai vinto o ho perso? Io ho vinto, ho vinto. Lupo, tu hai vinto che ti ho pingato delle armi. Stanno venendo? Eh, io ne avevo una buona. Dove sono morto io? Chi è che sta venendo? No, no, no. Capposito. No, vanno sparato. Sì, invece. Stava venendo qualcuno. Oh! Minchia, da lontano. Ci sono i fotografi. E ci sono i cecchini. Ci sono i fotografi. E ce l'ho pulito il cecchino. Qua. Questa zona qua. Piena di fotografi. Ci sono quattro almeno. Sparati con le... Ho le RPG. No, no. No, ma non ci arriva. Eh, lo sento, lo sento. Merda. No, ma è Tartaruga l'esperto dell'RPG. Ah, sì? Veramente io sono l'esperto del camion. Non dell'RPG. Lascia stare il camion, guarda. Vergogna. Comunque, lupo, dove ne entrati c'era una cassa? Qua c'è qualcosa. No, c'è l'Hurricain. Se non erro. Di fronte, di fronte. Qui c'è una hotelessa. Qui c'è una hotelessa. Buono quell'autoressa. Eh, dove va stata te? Ma dov'è la ricarica delle munizioni? Eh, sta qua dentro, lupo. Ma è sopra. Sopra, sopra. Sì. Sul tetto? Mi stanno sparando. Sì, a metà, quasi... Sì, ma lagga di brutto, eh? Sì, sì, sì. Va indietro e avanti da solo. Non sono arrivati dei colpi, eh? Eh sì, ci stanno i cerchini dall'altra parte. Avere, potete restare già? Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Allora, sono in lo shop. Ecco, sono in lì. Lupo, sono in lì a destra. No, quanti ne sono saliti? Oh, due a terra. No, non ci credo. Altri, sono saliti tutti. Tressate, lupo. Ah, c'è una scala per salire sul tetto. Tressate, lupo, restate, lupo. Andate via, andate via, andate via, che sono in quattro. Sono in lato, come lo capito. Madonna, quanto lagga. Sono in quattro comunque lì, andate via. Vieni, 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 danni. Eh, ma c'è nel resto di fronte. Ma ce n'è uno di fronte. No, ma sono i botti, sono i botti. Sono i botti, sono i botti, sono i botti. No, 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 no. Mi dai, mi dai, mi dai, i botti. Via, 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 via. Eh, pingate uno shop, pingate uno shop, ragazzi. Shop, fammi vedere. Madonna, lagga ancora, ti vedo andare tutto a scatto, ti vedo andare. Eh, sta qua giù. Qua ce n'è uno. Ok. Eh, non me lo fa pingare. Ho pingato io, ho pingato io. Al cheggio lo può, cheggio. Che palle, eravamo fatti tutti e due quelli. Scegli un po'. Scegli un po' più, basta. Oh, hanno appena arrestato, dai. Però se ne è stato andato con la macchina. Me ne vado, me ne vado, me ne vado, me ne vado, me ne vado. No, ma se ne è andato anche lui con la macchina. Se ne è andato, eh. E era da solo. Eh, no, no, hanno arrestato ancora. Ancora? No, no, no. Sì. No, come è possibile? Ah, è impossibile. Ah, è impossibile. Aspetta, Dani, 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 ascoltami. Ascoltami. Vai, vai. Ascoltami. Prendi il camion, prendi il camion e gira. Tu prendi il camion e gira. La vedo io. Arrestalo, arrestalo. Eh, sarebbe il bait che tu col camion fai finta che stai ancora girovagando. Vai, Lu. Ah, ti ha fatto restare da là in fondo? Cioè, vabbè. Ha fatto, ha fatto. Sì, vabbè. Vabbè, vai, vai. Ci posso dare altri soldi. Aspetta, leziamo pure all'amico. Ce l'abbiamo i soldi? Sì, ce l'abbiamo. No, no, non ce la fai. 4.000 costa. Quando sta? 4.000. Oh, no, mi sto proprio. Eh, aspetta, fammi vedere qua un attimo se ci soldi. Eh, voglio, poi dobbiamo prendere pure il furgoncino, eh. Eh, sì, è vicino. O la Dio devi andarcene. Aspettiamo al lupo. Ci sta una cassa. Eh, io ci sto, ci sto. Sto prendendo delle armi qua dentro. Eh, frate, se vuoi ti do l'hurigan. Vabbè, andate, andate. Prima che viene qualcuno nel... Diro l'hurigan fra voi. Ah, buono, buono. Eh, io ho trovato un MP5. Sì. Vabbè, fammo cambio. Vabbè, guarda là, guarda là, guarda là, si è messo... No, ma sarà aggrappato al camion. No, vabbè. Stupendo. Cosa ho visto? Sì, l'altra volta è sul treno, stavo aggrappando per sparare a uno e mi è rimasta aggrappato. Mi è rimasta aggrappato al treno. No, è tantissimo. Eh, lo so, ma possiamo mai andare così conciati a spararli? Eh, sono andati via, sono andati via con l'elicottero. Mi si è bloccato il gioco, forse. No. No. No, 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 aspetta, aspetta, aspetta. Ok, ok, mi si è sbloccato. Fammi dire cosa c'è da fare, che caccia possiamo fare? Aspetta, se c'è una treno, chieda. Eh, c'è uno sciagallo sopra. Questo, al treno. Eh, abbiamo... Sì, a 400 metri abbiamo quella roba. Ci conviene fare più una ricarica di munizioni a me. Eh, io come munizio apposto. Ah, ce l'hai? Se vi tengo un munito al salto ve lo do. Ce n'ho una marea. Ce n'ho 300... Non fa soltanto. E di qua non possiamo più salire. Eh, no, di qua no. Eh, vieni, vieni dietro. Eh, frago, come siamo messi a benzina? A proposito. Ah, è finita la benzina. Ecco qua. Finita? Che va lì? Eh, è finita, sì. Quasi, quasi, quasi. Spingi, spingi. Vabbè, vado qua sopra via la 198 di Milano. Vediamo, eh, sta finendo. Carburante scarso, eh, ho capito. Eh, vabbè, c'è la 198 di Milano. Aspetta, qua ci sono... Qua non hanno luttato, eh. No, c'è gente. Non mi fa scendere. No, sei rimasta lì? Sei rimasta lì? No. Ma come, mi ha riportato indietro? Mi ha riportato indietro? No, lagga troppo. No, lagga un botto. Eh, sono io del porto sfortuna. No, ma è la partita. Cioè, guarda qua, mi stavo sparando col tizio. Mi ha riportato indietro. No, 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 è folle. Basta, va giù. Vabbè, ma... Ma come se gioca, zi? Ma come se gioca così? No. Eh, no, ma è impossibile. Io l'ho visto entrare e uscire, entrare e uscire. Io vado, lupo, grazie per la compagnia. Buonanotte, Roby. Ma tra poco vado pure io. Anzi, mi devo prendere un attimo l'antistaminico. Ma come si fa? Buongiorno. Ma buongiorno. Occhio al lupo che mi stanno dietro, eh. No, non sono io, non sono io. Come no? Eh, no, io sono morto. Mi ha riportato indietro il gioco mentre mi sparavo col tizio. Davanti a lui mi ha riportato. Eh, Danilo, scusa. Bello, bello, bello. Bella sta cosa. Uedi meglio. Vieni qua, pezzo di... Vieni qua che ti do due cazzo di wireless. Cioè, ci sono i soldi, ci sono i soldi, ci sono i soldi. Nell'armadietto se non ho sbaglio. Ok. Scusa. Ma che è là? È laggata, è imbazzito. No, vabbè che è laggata. Eccomi. Non ti apri? No, non vuoi fare la mia. Eccomi, compreso. Andi sta a venico. Buonanotte, buonanotte, chiesa. Vai a letto. Eh, sì, vi ho detto, vado pure io. Dove ho aprire la massima. Ok, vai a restare. Alla massima, al massimo, al massimo, vi faccio l'ultimo. Faccio l'ultimo dopo questo e vado, vediamo. È il carrello più... È questo? Anche perché, madonna, sta diventando ingiocabile stasera. Che sta laggando tutto... Che è al limite safe. Sta laggando una partita al sinistra e l'altra pure. È proprio appunto perché è al limite safe, me lo voglio giocare là. Sì, infatti sto giocando con i sub. È un pezzo di fango. È venuto a quest'ora. Oh, che ha fatto? What? Guarda come sta laggando. Ah, ma io. Beh, infatti sto giocando con i sub. Beh, che lo so. Ottimo. No. Frati, prego, dimmi che hai letto. Chi ha bandato la partita. Ci ha bandato? Papo Natale è... E coso? L'arri... Lancio di equipaggiamento in arrivo. Pezzo di fango. Cosa è stato fino a ora? Dormivi? Vai, 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 vai. Ma lupo sta parlando con la chat? Eh, sì, sì, sì. Quando lupo è mutato, ragazzi, dovete capire che se non parla con la chat, tu pure sta mangiando. Scusa, la tua. E mangiare l'ho fatto prima. Tu pensa che io ho la live di lupo... Tu pensa che io ho la live di lupo qua... E guardo lupo e la partita. Ah, Sniper Service. Siamo beccati al Games Week. Sì, sì, mi ricordo, mi ricordo. Guarda come va bene, dai. Mi ricordo, buonasera Luigi. Mi ricordo, mi ricordo. Maraviglia, guarda. Buonasera, come sta? No, giocavo. Ma come giocavi? Ma sei proprio un discrazzato delinquente, guarda. Guarda, guarda, mi sto ballando in un wall. Eccomi. Eh, va, va, andiamo a fare un'altra morte, vai. Eh, dobbiamo cercare di recuperarla, ma deve smettere di laggare, cioè. No, no, lagga troppo. Mamma mia, è profissima. Ma poi a quegli altri che ci ha sparato non laggava, che cacchio. Guarda qua, Fra. No, a me è devastante, mi butta avanti e indietro da solo. No, io ti sto guardando, Fra. Ma ora, Danilo, ora. Hai visto? A Danilo no, a me sì, mi sta buttando avanti e indietro. No, lupo sta prendendo le armi e distante dagli scaffali al 3 km. A chi hanno sparato? Oh, a me mi hanno sparato. Ma te, sì. Ma che dici? Sì, attacamata. Oh, 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 mannnaggia, il uzozzino. Oh, dove? Oh, oh, uh, un uzozzus, un fragrolino, un fragrolino. Aiuto. Ci sono buttate, ci sono buttate. Oh, il cecchino. Tutto il luco sta con il cecchino suprano. Mannaggia, chi te è morto? Guarda là che non riesco a killarlo. Guarda che lagga Ancora la piastra vi mette Sì, sì A me crascia Guarda qua che sta succedendo Ah, prova a fare di me Prova a fare punto esclamativo Notify in chat Che ti riattiva le notifiche Dove sta l'altro? Dove sta l'altro? Eh, vuoi giocare Dove stanno? Qua, qua Ah, c'è un gecchino sulla montagna Fra Eh Oh Eh, buca di Non mi modi Non mi modi, di vero Eh, ma mi lagga Mi butto avanti, dietro da solo No, vabbè Sta saltando come il canguro Sono io, lo porto sfighe Non potete capire che lo sto guardando Ho messo il bombardo Fuggi, fuggi, fuggi Ma chi? No, no, vabbè A me non mi ammazza A terra, uno A terra, uno Dove? C'è un altro là Di fronte a te Qua A terra dove? Eh, ma Ma Aspetta Te li chiamo io da qua Eccoli uno Un altro a terra Tu questi, io lo compri sordo Ma che sta succedendo? L'hai fatto? Eh, sì Cioè, ce l'hai ancora a destra? Ok, non l'hai segnata Ma chi dov'è? Oh, ancora è là Che si muore Oh, è la madonna È qua dietro È qua dietro Mi vado Vengo qua Vengo qua E che cazzo Pure sulla montagna Wow, ma questo è un altro team Che smirata Hai fatto una smiratina Oddio No Eh, pezza Ah, è un altro team Questo Fra Eh, vabbè Sì, infatti Scendeva la sua Ah, c'hai il Gulag Ok Prendi da dati 6% Hai visto? Ora dice Ah, non ce l'avevi Cioè, ce l'avevi Ma non ce l'avevi Cioè In realtà Questa mano Devo segnare a sta cosa In realtà Da quando hanno fatto L'aggiornamento Di Facebook Mi sa che ha tolto Le notifiche a tutti Basta fare Quella cosa che hai fatto Quel comando In chat Si riattivano In teoria Ah, già col pompa Benissimo Oh, quanti sono? Bella Aspè, aspè Aspè Perché se vince l'amico Torni Vediamo L'amico mi sa ancora vivo Io mi ho tolto queste cose Non le capisco Cioè Gli spari Tutte e due vicino E non li prendi Vittorio Eh sì Ha vinto l'amico Te l'ho detto Ah, tu sei nato Eh, a me mi fa Si, si bugga Ma non mi è riuscito Guardando Diciottesima posizione Eh, non lo so Eh no Si bugga Ma mi fa vedere La squadra nemica Ma in realtà Lui è vivo Io non mi ti fa vedere Lo so Lo so Diceva Hai buggato Si bugga Ci fa vedere La squadra nemica Io sto guardando La squadra nemica Eh, pure io Sono sul canello Sono sul canello Sono sul carrello Dell'osservatorio Tutti e quattro Eh, all'osservatorio C'è un team Eh, non ci andiamo proprio Allora io mo' attivate Se non va con te Non la prendo Non lo so Non lo so Guarda Eh, hanno messo pure le mine È da vedere Mo' se si è attivato Se ti arriva Ho detto Me lo devo segnare Perché mi sa Che l'ha tolto a tutti Eh, vedi Pure a Giorgio Adesso si è attivato Allora Ma ma Non è il bot Non lo so Dove me lo segno Si Ma chi mi ha fatto Non lo spaga Dove me lo segno Che se no me dimentico Nei pro memoria Aspetta Gas sta convergendo Pronti al contatto Guarda Sono che botto questo Ma perché Sei a zona osservatoria Rani Eh, volevo fare La cazza per voi Ok Eh, io non so Che stai facendo Se ne stanno Sì, stanno Sulla montagna Dell'osservatorio Stanno Stanno andando Da qua Ma tu dove sei? Ma tutti i cazzi Che bug Cioè erano tutti vivi Li chiamavo Li facevo pushare Ah, però Vedete conto Lui è vivo Ma luce Siamo Oggi è successo un casino Praticamente non andavano i server di Facebook Quindi Ogni Da solo Si staccava Si staccava da solo Ma tutti E non solo a me E non lo so Forse stavano facendo qualcosa Qualche aggiornamento Non lo so E non si poteva fare la live La live è più lunga È durata 30 minuti Poi Pah Si è staccata da solo E alla fine niente Non riuscivo più ad entrare Vedi che anche se uno alle Ha queste notificative E ti arriva questo messaggio Adesso vediamo Adesso vediamo No facciamo la prova Anche con te La prossima volta che entro live Se dopo questo comando Se ti arrivano Allora Brondo riesce a fare un video Per i settaggi grafici Per il suo Sono impostazioni di Windows Allora Per i settaggi grafici Di come li uso Io ho messo le foto Sulla pagina Sniper Ho tutte le foto Ho messo Per i settaggi Windows Dipende che intendi Io me li sono fatti fare Sincero Ma non mi ricordo più Che mi hanno fatto Sul PC Sei morto Non so Sì Non so È uscita È uscita adesso Settima posizione È uscita Sì Adesso Adesso sì Vatti quella roba là Me l'ha fatto qualcuno Faccio la cavia 10 euro Fai 10 euro Diviso 10 Viene 0,1 Raga Sentite Sì Sì Ok Io vado Buonanotte Grazie di tutto Alla prossima Zio Lupo Buonanotte Buonanotte Dai Alla prossima Stato un piacere Alla prossima Buon lavoro per domani Allora Grazie mille Fammi vedere Io ho la foto di questo RPK Vediamo se lo riesco a settare Impugnatura no L'impugnatura A che livello si fa A livello 18 Praticamente Quasi all'ultimo Nel calcio Lui usa il supporto pesant Ah Questo qua praticamente Eh mi manca solo l'impugnatura Zio Poi c'ho la classe Quasi tutta fatta L'RPK GG Allora VDF Già stasera Non mi chiamate Ma zio Non lo sai che è mercoledì È sabeday Mi trovavi live Sei giocato per i cacchi tuoi Allora Ecco vabbè Mi tocca smanettare Sì sì Ma penso ci siano delle No ma chi è crashato Aspetta Fermo 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 Che cavolo È crashato Tartaruga Com'è che si chiamava Ehm Perché ha cambiato nome Ehm Ehm Come eramo Carciofola Carciofola Eh ma io devo mettere All'iniziale Carciofola Vediamo se riesce a entrare Tartarù torna Comunque Stavo dicendo C'è quella roba Alla ci sta anche Penso su internet Se smanetti Eh per quanto riguarda Windows Facebook Sta andando di matto Lavoro nella comunicazione E solo E solo quelli di meta Sanno cosa stanno combinando In questi mesi Nella funzione di underfaccia Stanno facendo un macello Lo so Lo so Stanno a combinare un casino Avevano messo Facebook gaming Adesso l'hanno tolto Stanno aggiornando un po' Ti robano Lo so Spero che Sistemano il tutto Prima possibile Che Lo migliorino pure Eh io faccio l'ultima Ora mi dice Inaccessibile Come dobbiamo fare Non lo fa Tu lo riesci a invitare No che non c'è Mi è arrivata la richiesta Mi aveva dato la richiesta D'amicizia Si è bugato di nuovo Mi dà inaccessibile Lo so Si è bugato come prima Che non potevo invitare Stacarciofola Oh l'ho invitato io L'ho invitato Aspetta aspetta Adesso me l'ha fatto invitare Dicevo mi faccio l'ultima E poi vado Eccomi Vai Eh si bugga Fra Meno male che ti ha fatto invitare Faccio l'ultima L'ultima in terzetti Che poi in realtà Possiamo invitare la gente A entrare nella nostra squadra A terzetti Eh Potremmo giocare a 6 No Maledio Eh no 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 L'ultima senza che attra In realtà potresti entrare In partita contro E poi ti invitiamo In squadra E facciamo il quartetto Dentro il terzetto Oh Beh Si perché in questa modalità Qua Abbi a r terzetti Sfrenata Puoi giocare fino a 6 Però Devi trovare un team nemico E lo devi invitare Che roba Che roba è Eh l'abbiamo fatta L'abbiamo fatta L'altra volta Abbiamo giocato a 6 E poi una volta L'abbiamo trovato pure contro E la mattina Abbiamo trovato un team di 6 contro Ovviamente Ci hanno massacrato Eh E mo che trovo la partita assieme Effettivamente Qua è più difficile Rebirt era più facile Che si trovava E' stato bellissimo Te lo giuro Bella Andrea Noi facciamo l'ultima Terzetto E poi vado pure io Vai Voi provate Se sentite Dei nemici Dei passi Provo pure io Fate in vita Vediamo magari Se si uniscono Che ne sai Eh Tutti ho fatto E' andata bene Vengo prima io a te A proposito Ma Ma Fra Tu sei Tu che sei di là Che è successo Per la questione là Che E' successo un casino Sono crollate le case Con la tempesta Oh no no Quando vai Andrei Buonanotte Ma c'ho gli occhi Che si stanno chiudendo Zio Dai fammi vedere Il prepartita Quanto manca Vabbè 40 secondi A voglia Ci vuole E non la posso Prendere Sta arrivando Un nemico Lo prendo Una di staminico Spontato Lagga pure questa No mi sa che Questa va bene No no Questa funziona bene Sta partita No 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 Funziona Funziona Forse abbiamo trovato Il server E dopo Dopo dieci partite Server Indo Jamaicano Abbiamo trovato Invece di quello Di Capolino Il mio comune Di casa Micciola Se ne è sceso Un pezzo Di montagna Che ha travolto Case Macchine Autobus Eh lo so Che ci sono state Pure delle vittime Ovviamente Vra Minchia che crolla Un pezzo Di montagna Eh tu Fortunatamente Io per ora Sto bene Ma mi porta In nuovo Allerta Meteo Io non sapevo Nulla Poi strano Perché Perché Sarebbe la fara Quella lì È fara È fara Io non sapevo nulla Perché mi pare Che è successo sabato Tutta sta disgrazia È successa sabato Io ero lì a Milano Ma nessuno me l'ha detto Eppure amici Ce li ho Non Non di ischia Però Comunque Di solito Quando succedono Delle tragedie Così grandi Anche nelle storie Di Instagram Lo scrivono Boh andiamo qua Lo so io Che forse Non Vabbè Ma io il telefono L'ho usato poco Eh poco Non è che stavo Su Instagram Alla tutto il giorno Ero impegnato Che c'è gente che arriva Sì Rado a gente No 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 Non mi laggare No Poi ho fatto una cazzata E l'ho in stata Da te c'era qualcuno Da nì Che era sceso E va bene Gli entrano i colpi E qua sotto E sotto E c'è? Non si è girato in tempo No ma uno Un è scappato Uno era sotto Non mi ha ucciso Quello lì Che avete sparato Eh ma quello là Che ho killato Dove sta? Ti ha restato No Ti ha dato quello che stava venendo A pusharti però Non ha avuto il tempo Boh Ce n'era uno che stava salendo Non mi ha dato la kill Già si è restato Non è possibile Ho si è restato No è qua Eccolo qui Ah sta ancora a terra In terra colo In terra colo Aspetta No è morto Si è confermato Si è confermato Cesso di fango Macchina o macchina? Gli amici mi sono Si sono loro mi sa Vai ragazzi No poverina E' una donna Sulla le scale Fatto Ma state sotto o sulla? Eh no Stiamo qua ancora Nelle scale No no Stiamo ancora al piano qua Sotto Dovravamo prima Ancora gente? No 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 Fammi vedere un po' No meglio questo Non ci sto a capire niente Ma andiamo in giù i soldi? Ah si Io? Eh si è perché il più posso Va bene va bene Dove andare in carrello Eh beh abbiamo già 11.000 Buono Eh stava il games week Ma nessuno manco là me l'ha detto Nessuno lo sapeva I soldi qua Allora io pusho 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 Mi aspetti Penso di fango No No Me ne vado No 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 Come? No sto facendo una cassa forte Raggiungiamo col camioncino Allora andiamo Dani Ha già rubato tutto Quello che te ne ha attiviso No 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 mi dissocio È peggio sul palicchi Dove ha fatto la roccaforte? Oh qua da noi potremmo fare le armi eh Oh 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 mi sparano qua Dove? Ahia Che è che ti spai? Non riesco a capire sul tetto 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 Non riesco a pingare Mannaggia Discord Di fronte fra Non il primo e il secondo tetto Ma stanno qua sopra di noi Quale tetto? Si Ah Fuck No 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 Li montaggi di pippo Vabbè Su due Su due Caccia Eh no Non ci voglio creare Sono spaccato tre volte A questo non muore Peccato Non è possibile Eh ma ha fatto con l'altro coloro Ok Con due sotto C'hanno una a destra e una a sinistra lupo Eh li ho visti Li ho visti Adesso di te Adesso di te Quella a destra dov'è? No Sei andato Stanno tutti e due a centro Una stanno andando Adesso di te Sì vabbè è impossibile La giocata ha fatto quel tizio Eh Dai vai Stai dietro Eh ti stanno andando di faccia Dietro a te Uno c'è alle spalle Ok Eh Eh sono proprio senza vita Come lo faccio a fa Peccato Eh vabbè Eh l'amico si fa ammazzare Eh vabbè Ma Alla fine qua nel C'è nulla che devi puntare più A te stesso Che aiutare l'amico tuo Cioè almeno che non è il compagno di squadra Ciao ragazzo Vai E non mi dì Spaccato Ah Come volo Slide up Eh mo c'è quello a destra Che ha fatto Danilo Eh C'era le spalle Eccolo No Ne sta buttate tutto Oh no Peccato Anche perché mi sa che l'aveva ferito il juggernaut Peccato Peccato Che culo Ah Eh vabbè io non ce la faccio più raga So cotto Eh vabbè Eh vabbè raga Io Raga vado Ok Buonanotte 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 ragazzi Buonanotte Ciao Ciao Allora Allora Mi serve a dire Comunque Quell'arma d'assalto Ti fa mirare Con l'asera Di traverso Fa i buchi Oh quella Io la stavo usando E questa qua Quella che trovi a terra La stavo usando Prima ci ho fatto Un botto di kill Non ce l'ho nella classe Il bus Comunque Quella là Non ce l'ho qua Settata Vabbè Comunque Questa qui Questa qua C'ho anche un progetto Pensate Questa qua Settata con il laser Che non so qual è Comunque Il laser Quello laterale Ah Molte ce le ho bloccate Aia Penso sia questo Il laser Comunque Con il laser qua Che te la punta Laterale Fortissimo Lo so Lo so Ci ho fatto Un po' di kill Prima Buonanotte Buonanotte Ma i gettoni in battaglia A cosa servono I gettoni in battaglia Aspetta Questo qua Questi qua Ti intendi Eh Questi qua Sono Per sbloccare Le robe del battle pass Tu l'hai comprato Ma se non l'hai comprato No Ma se ce l'hai comprato È per sbloccare La roba del pass Altrimenti Ovviamente Non lo puoi sbloccare Sono i livelli Del pass E nulla Vabbè Detto questo Uè Lupetto grande Sono appena uscito Dalla palestra A lune 31 Notte però Ci si becca In live Bella 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 Domani Sono di nuovo Qua in live Domani Ci si becca Domani Tu sei a zero Oggettoni Eh zero Oggettoni Perché l'ho finito Tutto Vedi Quando è tutto così Colorato Vuol dire che l'ho sbloccato Già tutto L'ho già fatto E quindi non me ne dà più Che una volta che lo finisci Non te li dà più Lui te li dà contati Per sbloccare tutto Buonanotte pdf Buonanotte tartarù Bella fedeico Che ti hai fatto A luna A luna e trenta A luna e trenta In palestra Un pazzo A palestra è aperta A luna e trenta di notte E io sono livello 250 Già Ma già da un po' In realtà Ok Fedeico Niente Vabbè Fedei Per la palestra Pezzi di un Fedeico Io mo stavo staccando Stavo andando a dormire Poi ci ribecchiamo Domani A ora di pranzo Sono di nuovo qua Sembra se i server funzionano Ci sono di nuovo A ora di pranzo C'è ora di pranzo E poi la sera E si perché Si montano le 23 Vado diretto Ah C'è la palestra 24 ore su 24 Guarda che figata Non so se qua Ci esiste Penso di sì E ci sarà anche a Napoli Una palestra 24 Però Non qua vicino a me 24 ore su 24 Che figata Farà comunque Buono Cioè io mo Potrei staccare E vado in palestra Alle due di notte Figata E vabbè Dai dai Ci becchiamo domani A ora di pranzo Buonanotte Di prophets Ok Dauf было Già E Dauf Dauf Dab D Spike Grazie a tutti